Riprenderò alcune idea che avevo messo in quella precedente, quindi farò di nuovo una introduzione da un punto di vista concettuale, riprendendo alcuni concetti dalla lezione dell'altra volta sullo Stato-Nazione e sull'ambiguità del concetto di Stato-Nazione che, come conclusione della mia presentazione l'altra volta, nelle dinamiche geopolitiche oggi è la fonte dei problemi e non la fonte delle soluzioni. E quindi per confermare questo tipo di approccio ho trovato degli articoli di giornale proprio sulla questione dell'Ucraina e su questa cosiddetta crisi ucraina che dal mio punto di vista è stata costruita, voluta, come avevo detto la volta scorsa, voluta non capisco ancora bene perché, perché di fatto le ragioni economiche e concrete dello spazio fisico per che non ci sia una guerra sono molto molto di più di queste ipotesi di guerra che invece la cui parola guerra è piena, è molto presente nei titoli dei quotidiani, dei nostri quotidiani. Il titolo di questa volta è l'abbinamento storia e geopolitica, le diverse narrazioni del passato e quindi quando poi parlerò nello specifico delle aree culturali e geopolitiche, quello che mi interessa sono la cosiddetta lunga durata, quelle narrazioni di fatti del passato che vengono narrati ancora oggi a sostegno di certe posizioni, da un lato, e dall'altra vi presenterò la mia interpretazione di quali fatti storici hanno lasciato un segno così forte e sono ancora in qualche modo vissuti non a livello di narrazione ma come percezione della gente comune che non sa molto di storia, non sa molto di geopolitica ma con il giro dei memi e delle iconografie in fondo continua a rincalzare questa percezione di se stesso e degli altri perché nella geopolitica c'è sempre questo confronto con l'altro, ebbene la lunga durata di questi fatti storici o dinamiche storiche che ancora vengono vissute. Le narrazioni del passato però nella concezione dello stato moderno rivendicano confini rigidi, ovvero lo spazio deve essere confinato per essere riconosciuto come entità autonoma e politica. I gruppi umani invece, era la mia tesi di allora e della mia tesi continua, nel tempo producono invece dei confini che sono sempre flessibili e sempre in mutamento perché le dinamiche umane sono sempre in mutamento e quindi nelle grandi aree il confronto est-ovest in Europa, l'area cosiddetta confuciana di Cina, Giappone, Corea, al Medio Oriente, il corno d'Africa e le due Americhe, quella franco-anglosassone del nord e quella latina, le leggerò e ve la presenterò sempre nella dinamica tenendo d'occhio i gruppi umani nel tempo e quindi la flessibilità e il mutamento delle loro condizioni economiche o soprattutto linguistiche, spaziali eccetera eccetera. Parlare di queste cinque grandi aree in un botto solo, quindi all'interno di una presentazione di un paio d'ore è assolutamente una protesa che molti considerebbero esagerata e quindi su alcune immagini andrò piuttosto veloce nei commenti. Tanto ricordo, giusto due giorni fa Jacques Lévy, che è un geografo francese che mi piace molto, molto quotato, ha fatto una conferenza per presentare il suo testo, la Geographie du politique, quindi recente, ve lo consiglio perché è un manuale sostanzialmente, quindi potrebbe essere utile per voi che il francese lo maneggiate tranquillamente, ha ricordato che la geografia non ama la politica, poi vedremo cos'è la politica, la politica non ama la geografia e le scienze sociali non amano né la geografia né la politica. Lo spazio però è fondamentalmente politico nel senso che la politica significa gestire il cambiamento, avere a che fare col cambiamento e quindi sempre nello spazio si ha a che fare con il cambiamento. La politica, da un punto di vista proprio più specificatamente politico, ha detto che la politica, cioè questo rapporto col cambiamento, esiste anche senza la democrazia, cioè ovunque a prescindere dalla struttura politica o dal quadro istituzionale si ha a che fare con la politica. E poi lui domandava quale poi democrazia? Bisognerebbe essere più precisi e invece fateci caso nei titoli giornali non è mai così. Una democrazia rappresentativa? Una democrazia interattiva deliberativa che è quella che lui propone nel suo libro per esempio in cui gli amministrati non si limitano a votare ma hanno anche momenti e strumenti per essere interattivi con i gestori della politica. Oppure una democrazia partecipativa e qua ho messo anche i puntini perché quando dico partecipativa ci sono stati dei modelli di democrazia partecipativa soprattutto dal basso che sono sempre stati teorici ma che in questo momento vengono applicati, ve l'avevo detto la volta scorsa, esclusivamente ed è il primo caso che sta durando da sei anni tra i kurdi del Rojava del nord-est della Siria. Quindi sarebbe un esempio per noi interessante ma che guarda caso non se ne parla. Ricordo che la geografia politica è sostanzialmente la mia veloce interpretazione la teoria della politica nello spazio mentre la geopolitica è l'applicazione a spazi concreti e c'è sempre questa dicotomia tra le affermazioni di principio e le azioni concrete. Si parla spesso come frase iconografica della legge del diritto internazionale che sono i trattati e gli accordi che però ovviamente valgono per chi firma o per chi aderisce alle consuetudini internazionali e chi non firma gli accordi internazionali è vincolato o non è vincolato. Ebbene da questo punto di vista c'è una grande incertezza e ambiguità per cui gli altri che non firmano i trattati però vengono chiamati a rispondere alle consuetudini internazionali che naturalmente si costruiscono sui trattati ed è una sorta di relazione di rapporti di forza. Le dichiarazioni politiche sono quello che io chiamo spazio rappresentato simbolico per cui il suggerimento mio stiamo a sentirle le dichiarazioni politiche però teniamo conto che sono sempre dichiarazioni costruite volute eccetera mentre gli atti concreti sono nello spazio fisico per cui da geografo suggerisco sempre nelle dinamiche geopolitiche guardate subito prima che cosa succede effettivamente nel territorio al di là delle dichiarazioni. Come si costruisce l'iconografia dell'atto di forza risolutivo perché vi avevo detto l'altra volta e lo ribadisco che se la geopolitica è un insieme di rapporti di forza quelli più potenti naturalmente sono anche più potenti dal punto di vista della forza e quindi più portati a risolvere le questioni con un atto di forza risolutivo o con anche attenzione può essere anche un piccolo atto di forza che però crea delle condizioni che poi vengono sfruttate a proprio vantaggio. Come si costruisce l'iconografia ovvero sia che questo è il modo migliore di risolvere le dinamiche geopolitiche tramite quello che io chiamo spazio percepito ovvero le emozioni dei gruppi umani per cui i memi le parole eccetera che continuamente ci vengono ripetuti soprattutto dai mass media giornali televisione poi anche social media twitter instagram facebook eccetera cristallizzano cioè fissano una iconografia che vuol dire l'abitudine a sentire certe parole vi ho fatto l'esempio prima dell'abitudine alla parola guerra cioè continuamente presente nei titoli dei giornali a questo punto ci abituiamo a considerarla come un fatto normale e l'idea che ci possa essere una guerra vabbè è una cosa che può essere noi ci abituiamo ebbene queste iconografie e i memi sostengono il discorso cioè la visione il quadro generale ovviamente che è quello tradizionale molto profondamente umano quello dell'amico nemico quello dei buoni e dei cattivi e cioè noi siamo buoni e gli altri sono cattivi la storia visto che siete docenti di storia filosofia io nasco come storico prima di avere l'illuminazione il satori diventare geografo che parte dallo spazio per definire la dimensione del tempo la storia maestra di vita ho ricordato qua la frase precisa perché si prende solo un pezzettino però cito anche che fra una pediatra psiconalista francese françois d'olto a proposito degli insegnanti se la storia è maestra anche gli insegnanti sono maestri però lei ricordava e io sono molto d'accordo che si insegna soprattutto quello che si è e non quello che si sa quello che si sa passa attraverso quello che siamo e quindi la storia sarà anche maestra di vita ma ogni studente cioè ogni ipotesi di qualunque tipo capisce quello che vuole e soprattutto secondo quello che è e questo nel momento in cui noi abbiamo gli attori sentiamo Biden Putin a un tempo la Merkel adesso Macron e cose del genere ecco come dicevo l'altra volta le caratteristiche anche di questi soggetti e che loro sono studenti hanno imparato dalla storia quello che vogliono che hanno voluto e la interpretano la propongono secondo anche quello che sono noi siamo ancora nelle dinamiche geopolitiche all'interno di questo quadro se io vi parlo di gesti azioni di forza gli stati quindi sono come gli uomini faccio notare che Hobbes naturalmente o anche più indietro Plauto parlavano di uomini in senso generale perché le donne non avevano molto molto valore da un punto di vista concettuale e non è che siamo poi così tanto diversi allora quello che ricordo di nuovo la famosa concezione di Hobbes che è lo stato di natura in cui gli uomini soggiogati dall'egoismo si combattono l'un l'altro per sopravvivere da questo l'idea che è ancora permanente nelle dinamiche geopolitiche e che gli stati come gli uomini cioè gli esseri umani soggiogati dall'egoismo che banalmente continuano a dirci quando ci dicono noi dobbiamo perseguire l'interesse nazionale dell'Italia e lo stesso la Francia deve perseguire l'interesse nazionale della Francia questo è l'egoismo e quindi per sopravvivere si devono combattere l'un l'altro io lo contesto e anche altri l'hanno contestato siamo ancora all'interno di un quadro concettuale in cui von Clausewitz ancora diceva la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi il 18 due giorni fa Gianni Riotta che è un giornalista inviato eccetera se ne viene fuori bello bello in un commento oramai i giornalisti commentano qualunque cosa a qualunque livello mi domando perché Gianni Riotta debba essere qualificato per fare un commento del genere l'arte di pensare la guerra notare l'arte di pensare la guerra la prima frase pensare la guerra è arte e grazie a dio gli europei l'hanno dimenticato da decenni ora io non l'ho sottolineato ma poi vedrete questa cosa che nel finale questo inizio grazie a dio gli europei hanno dimenticato da decenni che quindi è un'attribuzione di valore positivo verrà bellamente contraddetta da lui stesso e allora cita un libro storia dell'arte della guerra nel Costello e osserva come la cultura dei popoli sia forgiata dal modo di combattere cioè esordisce con una frase che dice che bello che gli europei hanno dimenticato la guerra da decenni si è dimenticato tranquillamente quello che è successo dopo la fine della guerra fredda i tre quattro anni di guerra terribile 300 mila morti nei balcani quindi l'europa non si è affatto dimenticata della guerra da decenni naturalmente però come vedete qua è l'esercizio della costruzione di un meme e di una iconografia vedete qua a sinistra vi ho elencato e vi ho messo dove venti di guerra duro esame di coscienza costretti a pensare alla guerra con realismo conquista vantaggio storico gli attacchi rai contro Kiev la guerra come solo modo di essere l'europa non è mai stata così vicina alla guerra da decenni obama non ha voluto intervenire in siria in ucraina temi che noi europei ignoriamo a nostro rischio e qua siamo alla fine se non torneremo a pensare alla guerra sarà la guerra pensare a noi questa è la frase che è l'ultima che contraddisce l'inizio il che vuol dire non grazie a dio qua in fondo dovrebbe dire e grazie al diavolo che noi abbiamo smesso di pensare alla guerra perché così l'abbiamo fatto a nostro rischio e vedrete che la guerra ci tornerà tra capo e collo questo è di due giorni fa all'interno di un confronto per la crisi ucraina gli articoli sono cominciati nella seconda metà di novembre probleme che i leader politici e la gabbia mentale alla quale sono stati selezionati o eletti o autoimposti sono loro il problema i migliori negoziatori dei conflitti sono i leader degli stati potenti che hanno una tendenza a considerare l'atto di forza come risolutivo e facilitatori professionali qua vi metto una serie di riferimenti di altri che hanno proposto altri approcci per risolvere concretamente le dinamiche geopolitiche robert axelrod robert rivers alberto labate e joan galtung sono quelli più famosi quello che mi mi importa sottolineare qua guardate quanto sono quando quando sono nati nel 43 nel 43 questo labate morto nel 2017 perché era nato nel 31 joan galton galtung ha ancora 91 anni ed è ancora vivo cioè gente però sono pensatori di un'altra generazione quindi noi siamo in una fase in cui pensatori che stanno proponendo come loro soluzioni concrete pacifica delle dinamiche geopolitiche non ci sono non ci sono non ce ne sono così tanti quindi sono pochi e quei pochi naturalmente non vengono presi in considerazione non non hanno una ribalta mediatica il principio di riferimento di queste proposte di soluzione pacifica delle del conflitto non della negazione del conflitto quindi una visione diciamo irenica la pace bisogna siamo tutti buoni non ci sarà problema noi conflitti nasceranno ma c'è sempre il modo di risolverlo e loro proponevano attenzione perché poi lo riprenderò efficacia della pre analisi pubblica cioè di gente e loro come vedete joan galtung ha messo in piedi l'international peace research institute che ancora è attivo lo trovate su internet che fa delle pre analisi delle dinamiche in corso e stima ogni anno a seconda del pericolo dice sulla base delle nostre analisi questa dinamica ha un'alta probabilità di diventare un conflitto dice questo è uno strumento fondamentale prima di arrivare al conflitto noi dovremmo vederne gli elementi pericolosi e quindi prima che scoppi o che cresca la tensione elaborare soluzioni bottom up cioè dal basso e trasparenti vi do un riferimento all'international crisis group che non è così ben orientato diciamo come quello di galtunga però ha elementi di analisi che cercano di favorire la soluzione dei conflitti in maniera pacifica e per arrivare a gente più giovane anche se come vedete david held è molto 2019 però era nato nel 1951 quindi della mia generazione non quella di galtung o di drivers che sono nati negli anni 30 o nel 43 poi anche daniele archibugi che ancora più più giovane questi hanno scritto dei testi ancora fine degli anni 90 primi anni 2000 in cui proponevano delle soluzioni anche istituzionali all'onu per risolvere i problemi in maniera non conflittuale siccome si parla di divisione muri era più recentemente questi due titoli negli ultimi dieci anni di team marshall i muri che dividono il mondo che è più contemporaneo sui muri esistenti invece david frai muri una storia della civiltà in mattoni e sangue che invece interpreta tutta la storia sostanzialmente dicendo che gli esseri umani si dividono tra e guardate banalmente tra nomadi e sedentari lui lo presenta in maniera più dinamica e anche più divertente in certi punti però sostanzialmente sottolinea questa tendenza che quando uno sta bene in un certo territorio tende a fermarsi e non ha più voglia di combattere e quindi costruisce dei muri mentre quelli che accettano la fatica il cambiamento del continuare a cambiare spazio muoversi eccetera a questo punto sono più disposti anche all'atto di forza risolutivo e quindi contro di loro bisogna mettere i muri perché si spostano anche Keynes pensava e proponeva la pace pragmatica e quindi anche lui rifletteva sulle condizioni che avrebbero favorito una risoluzione pacifica delle dinamiche delle dinamiche conflittuali eppure di Keynes si parla sempre soltanto dal punto di vista o dello stato sociale o come economista mentre Keynes aveva una visione più complessiva dell'economia proprio perché aveva anche questo tipo di quadro concettuale secondo quali iconografie si deve secondo quali iconografie si può trattare se risolvere pacificamente le cose vi avevo detto l'altra volta i 30 articoli della dichiarazione universale dei diritti umani le altre due dichiarazioni sui diritti sociali ed economici però l'idea di concepire questa dovrebbe diventare un'econografia ma non è ancora così che i confini debbano essere mobili o flessibili cioè gestiti secondo autonomie funzionali cioè i confini visti come cooperazione trasfrontaliera il mio suggerimento per esempio tutti gli stati dell'onu dovrebbero essere obbligati a ospitare una tv dell'onu in modo che non ci sia questa dicotomia tra le narrazioni voi credete che in questo momento in russia la questione della crisi ucraina sia trattata con gli stessi titoli dei nostri giornali o con l'approccio che abbiamo noi in occidente per cui i russi sono cattivi e stanno sicuramente per attaccare dall'altra parte la narrazione completamente diversa perché il sistema mediatico in un sistema par semi autoritario come quello russo di putine degli oligarchi naturalmente racconta che invece l'occidente che sta cercando la russia e ha cominciato da molto tempo da quando è finita l'unione sovietica e pensate che in corea del nord e i nord coreani possono avere delle informazioni di quello che succede nel mondo non filtrate da quello che pensa il partito comunista nord coreano eccetera quindi banalmente ho detto beh ci dovrebbe l'onu dovrebbe farsi una televisione sul modello dell'euro news per esempio cioè i diversi stati producono delle loro notizie che una redazione poi decide come quando mandare eccetera una redazione fatta da gente che viene da diversi stati e buttavo lì anche beh se tutti tutti gli stati sono membri dell'onu hanno accettato certo statuto l'onu emette un passaporto di cittadinanza quindi tutti i cittadini degli stati sono 193 membri dell'onu sono cittadini dell'onu del mondo allora qua vi ricordavo la volta scorsa l'articolo 2 della dichiarazione degli diritti umani che dice che non importa lo status giuridico del territorio in cui un essere umano si trova i suoi diritti devono essere garantiti da chiunque abbia autorità su quel territorio vi ricordavo l'altra volta che le parole chiave quelle che io chiamo iconografiche della geopolitica e dei ovviamente dei mass media sono la sovranità l'integrità territoriale il diritto la legalità internazionale la stabilità gli interessi nazionali che vuol dire vantaggi economici solo per noi per la nostra nazione gli altri si arrangino avere un ruolo ma avere un ruolo internazionale senza il supporto militare credibile che vuol dire che tu le armi non solo le devi avere gli altri devono sapere che ne hai tante ma per essere credibile devi anche averle usate cioè devi aver compiuto degli atti di forza se l'hai fatto sei uno credibile se non l'hai mai fatto anche se le hai le armi non sei sei uno meno credibile il concetto di sicurezza che vuol dire tenere fuori dai confini pericoli e problemi ora in questo quadro la fisicità del territorio cioè come fatto il territorio e le caratteristiche geografiche non viene quasi mai quasi mai considerato questo lo noto io da geografo e anche la lingua e le culture cioè il fatto che in un posto in un paese si parli la lingua in genere si prende la lingua ufficiale quindi la lingua dominante la cultura si prendono gli elementi dominanti della cultura cioè non si tengono quasi mai conto delle minoranze delle differenze in un quadro quindi di rappresentazione di sé dell'altro perché interpretati nel concetto quadro di nazione non dello stato perché lo stato riconosce tutti i cittadini con le loro differenze mentre il concetto di nazione dice no la nazione ha certe caratteristiche quelle sono più importanti il 15 gennaio come vedete già però ma solo che è stato un ambasciatore italiano tra parentesi anche in turchia scrive un articolo sui negoziati con la russia e vi metto qua di fianco a conferma io trovo a conferma di della schermata precedente quali sono le parole chiave che lui ha usato in rosso vi ho messo le parole che hanno a che fare con la forza o con l'uso di una potenza gli equilibri di forza la sicurezza minaccia strategica cinese nemico credibile deterrenza sicurezza credibile deterrenza sicurezza tre volte sicurezza due volte deterrenza e anche sottolinea pazzi di influenza contenere orbita di pechino sono parole che hanno a che fare in ogni caso con una posizione di forza poi abbiamo sovranità autodeterminazione stati governi che sono naturalmente le parole istituzionali però come vedete ci sono dentro anche i destini ci sono destini cioè una nazione a dei destini tra mille anni noi dobbiamo costruire adesso qualcosa perché il nostro destino è dall'altra orgoglio nazionale dei nostri valori non meglio specificati non meglio specificati perché come vi ho detto noi siamo abituati a sapere quali sono i nostri valori che sono quelli che ci vengono ripetuti costantemente come memi e come iconografie dai sistemi mediacisi dai discorsi dei politici che sono spazio rappresentato simbolico quindi come vedete è di cinque giorni fa questo articolo volontà di pochi generale o volontà di tutti perché su questo guardate che politicamente si sono create delle grandissime differenze anche sistemi istituzionali diversi le crisi geopolitiche sono gestite di volta in volta da un massimo di dieci stati i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza che hanno anche diritto di veto e quindi gli stati uniti sempre la russia quasi sempre gli stati uniti spesso aiutati dal regno unito quasi sempre e francia un po meno frequentemente del regno unito la cina solo se la crisi tocca i suoi interessi diretti perché loro sono cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza e avendo il diritto di il consiglio di sicurezza che è l'unico organismo internazionale a cui viene riconosciuta la sovranità di intimare a qualcuno a uno stato di smettere di fare qualcosa o di cominciare a fare qualcosa che se non lo fa il consiglio di sicurezza autorizza l'uso della forza come è stato nell'iraq di saddam hussein nel 2001 chi vuole combattere l'iraq è autorizzato a farlo però l'onu non ha voluto farlo perché allora gli stati uniti volevano ma la francia sia opposta usando il diritto di veto però questo vuol dire che questi cinque non potranno mai essere soggetti a delle sanzioni da parte del consiglio di sicurezza perché basterà che loro mettano il veto e anche se gli altri 14 sono d'accordo loro dicono di no e quindi non potrà passare niente contro di loro a seconda della collocazione geografica della crisi uno più potenze regionali vengono coinvolte nella consultazione e talvolta nella gestione attenzione consultare una cosa gestire un altro questi massimo dieci stati fateci caso è la cosiddetta comunità internazionale quindi attenzione alla comunità internazionale deve reagire stiamo parlando di quei pochi che continuano a gestire ora vi faccio notare 4 gennaio di quest'anno questi cinque si sono riuniti notare che però la notizia è a pagina 10 eppure non è una notizia da poco questi cinque che sono potenze nucleari hanno tutti armi nucleari quindi sono i più potenti della terra da questo punto di vista si sono riuniti hanno detto una guerra nucleare non può essere vinta e quindi questi cinque vedete washington parigi londra mosca pechino considerano proprio principale responsabilità evitare una guerra tra paesi con armi nucleari e la riduzione dei rischi strategici stiamo parlando di 16 giorni fa una guerra nucleare non può essere vinta e non deve essere mai combattuta mi sembra una notizia abbastanza importante che questi qua dicono che non hanno intenzione di usarle le armi eppure come vedete viene messa a pagina 10 notare che qua all'interno di quest'articolo questi cinque hanno detto che ritengono c'è un trattato e ritengono di aderire a questo trattato che prevede l'obbligo a negoziati in buona fede a lavorare con tutte le nazioni per creare un clima di sicurezza più un clima progressi e disarmo però siccome washington e mosca che controllano i maggiori arsenali atomici ebbene hanno ricevuto l'appello di 700 scienziati compresi 21 premi nobili che involtano azioni unilaterali su questo fronte cioè a dichiararsi a impegnarsi formalmente di non usare per prima in caso di conflitto l'arma nucleare quindi vedete anche un dibattito c'è un dibattito alto come entra la crisi con l'ucraina e quindi la parola guerra l'arte di pensare alla guerra di cui ci ha parlato Gianni Riotta con questo articolo di solo 16 giorni fa dell'ambiguità dello stato nazione vi avevo già parlato perché vuol dire che lo stato presuppone uno spazio con confini fissi al proprio interno riconosce diverse identità dei suoi cittadini quindi anche quando si raggruppano di diversi nazioni mentre il concetto di nazione è un concetto tendenzialmente univoco che però risponde a questa idea transfer di tutti gli umani di trasferire a qualcosa di fisico le proprie emozioni e pulsioni. I risultati di questa ambiguità sono come vi dicevo l'altra volta considerare gli stati o alcuni di loro come rappresentanti di culture e attribuire alle culture confini fissi e territori specifici. Questo l'ho riportato perché nel momento in cui io vedrete vi parlerò di grandi aree culturali in realtà entrerò in una dinamica un po' confusa e anche ambigua perché vedrete nelle carte i confini fissi che io sto contestando perché dico che i confini degli esseri umani non possono essere fissi perché gli esseri umani sono sempre in movimento e è un movimento nello spazio in orizzontale e nel tempo perché le nuove generazioni cambiano alcuni presupposti della dinamica della dinamica sociale quindi anche politica nel tempo e dall'altra parte tenderò anch'io a parlarvi di elementi culturali che accomunano che vi dico guardate che questo queste idee ve le avevo anticipato o questa percezione di un fatto storico del passato viene vissuto ancora adesso ecco prendetele con le molle nel senso che il mio approccio anche se sarò all'interno di questa ambiguità è un approccio che vuole essere sempre flessibile mai rigido ovvero ossia il mio intento non è mai di dire i cinesi sono così sono sempre stati così e saranno sempre così noi italiani siamo così siamo sempre stati non è assolutamente questo quindi siamo all'interno di questa ambiguità siate svegli intelligenti però chi invece prende sul serio queste cose vedete nel 1993 samuel huntington scrive un articoletto su una rivista e parla di clash of civilizations cioè scontro di civiltà piace talmente tanto questa sua frase questa suo approccio perché è perfetta all'interno di quel quadro concettuale che vi ho detto invece che gli stati nazione si presume che rappresentino dei blocchi culturali linguistici quali sono queste civilizations sono nove dice lui e sono quello occidentale quell'ortodossa confuciana buddista giapponese hindu islamica africano e latinoamericano poi ha avuto talmente tanto successo scusate che lui ha scritto un libro nel 96 che è stato stravenduto e ne hanno tutti l'hanno commentato a favore moltissimi contro anche altri però a favore o contro per dieci anni si è andata avanti a parlare di questo tipo di approccio che non è ancora scomparso allora abbiamo categorizzazione religiosa islamico ortodosso buddista induista e confuciano che in realtà è più una filosofia in parte usata come religione però i giapponesi che sono buddisti shintoisti no loro sono giapponesi perché non li ha messi coi buddisti non si capisce poi gli africani sono africani sembra che la religione o la lingua oltre non ce non abbiano è una roba geografica i latinoamericani invece una cosa culturale sono latinoamericani quindi geografico culturale ma di cultura latina e questi gli occidentali sono puramente geografici occidente sì ma attenzione sono gli stati uniti l'europa ma l'occidente è occidente rispetto a chi se c'è un occidente c'è anche un oriente ebbene voi credete che i cinesi si considerino orientali i cinesi si considerano cinesi e nelle loro carte geografiche si mettono in mezzo al centro del mondo poi dell'occidente come vedete ci mettono australia nuova zelanda che sono da un punto di vista geografico esattamente agli antipodi degli stati uniti e dell'europa ma allora anche questo western è una definizione che sembra geografica ma invece è culturale dal mio punto di vista è un elemento in parte di forzatura però attenzione in parte ricalca un qualcosa che in fondo vi ho già detto utilizzerò anch'io qua però come vedete quando uno ha una concezione rigida delle civiltà ovvero ha in mente i muri e le divisioni e qua i confini di questi territori sono i confini degli stati che appartengono a queste aree ecco perché è una concezione rigida a questo punto attribuisce a tutta quest'area come a tutta quest'area una caratteristica culturale unica che identifica tutti vedrete quando parleremo del Medio Oriente che parlare di aree islamiche in questi termini come una cosa unica è un'enorme stupidaggine dal punto di vista religioso storico e culturale però quello che io che ho trovato interessante è l'approccio di questo sociologo che nel suo libro dice vabbè per identificare un gruppo umano secondo me i caratteri principali sono questi cinque che abbiano un legame col territorio cioè che siano stati lì un bel po' di tempo che abbiano costruito un mito cioè su di loro noi siamo stati, discendiamo da questo dio siamo venuti fuori dal mare eccetera eccetera un'eredità storica cioè questo gruppo umano dice sì nel nostro passato storico è successo questo abbiamo vinto qui, abbiamo perso qua eccetera eccetera una diversità cioè che in qualche modo si siano attribuiti una diversità noi abbiamo questa particolarità che è tutta nostra ultimo che le loro abitudini di vita cioè il modo di vestire, il modo di mangiare eccetera siano delle iconografie per cui quando uno vede che uno si veste così riconosce, si riconosce come appartenente allo stesso gruppo però l'altra volta vi facevo notare che da geografo non possono considerare negativamente che non si parli delle caratteristiche del territorio perché vivere nella giungla o in una zona desertica cambia radicalmente le cose da un punto di vista delle abitudini di vita e quindi anche della cosiddetta diversità del genere di vita e quindi anche delle vicende storiche è uno degli elementi però che accomuna, che tiene insieme i gruppi umani che li fa sentire vicini, appartenenti allo stesso gruppo e protetti è quello della condivisione della lingua comune che arriva a livelli di precisione e sofisticazione molto grandi perché è vero che circa l'ottanta, poco oltre l'ottanta per cento degli italiani parla o l'italiano o un italiano dialettizzato e solo un numero ristretto parla un dialetto o un dialetto un poco italianizzato sta di fatto che anche solo la pronuncia noi capiamo immediatamente che parliamo lo stesso italiano ma io capisco che tu vieni dal Veneto come capisco che sei romano, come capisco che sei napoletano e gli altri capiscono che io sono milanese anche se quando ero studente e adolescente quando mi dicevo vieni da Milano io non riuscivo mai a capire come facessero a capirlo perché noi milanesi, dicevo, non abbiamo accento questo per dirvi ed è un esempio concreto di come la autopercezione è un'autopercezione costruita il 16 gennaio c'è questo articolo di Gaetano Percora sul sole 24 ore della domenica che parla degli elementi del diritto e del perché si obbedisce alle leggi e vedete il titolo perché i metodi coercitivi non sono adeguati e io l'ho scelto un po' perché dice delle cose carine e interessanti e poi perché è coerente con quest'idea per risolvere le dinamiche geopolitiche ci vuole l'atto di forza risolutivo oppure si possono usare sistemi non coercitivi ebbene, da un punto di vista concettuale il diritto in cui i precetti vengono obbediti non perché assistiti lì per lì immediatamente dallo spavento della coazione cioè se non lo fa interviene la polizia o c'è una multa ma almeno in prima battuta le leggi, le norme vengono obbedite per altre ragioni quali? Un po' per quel automatismo che non manca mai nella vita di relazione banalmente agiamo così perché così ci siamo, ci hanno abituati secondo, un po' perché condividiamo il tenore dell'obbico consenso beh, se mi dicono di fare una cosa su cui io sono d'accordo non c'è bisogno di obbligarmi sono d'accordo, la faccio volentieri e un po' anche per confidenza nel prossimo cioè siamo convinti che pure lui il prossimo nelle nostre condizioni agirà esattamente come noi e quindi per fiducia dell'altro che sono degli elementi e dei caratteri tipicamente umani che sono all'interno dei gruppi umani e delle dinamiche umane e che quindi, siccome ci sono già la tesi di quelli che avevano fatto delle proposte per risolvere pacificamente le dinamiche geopolitiche facevano riferimento esattamente a questo tipo di cose che in questo articolo vengono richiamate l'ambiguità dell'uguaglianza degli stati in realtà ci sono quelli più forti e quelli meno forti non solo, ma all'interno di quelle forti e meno forti c'è anche una diversa volontà di potenza ci sono stati forti che hanno una volontà di potenza più bassa di altri stati forti che hanno una volontà di potenza più alta e degli stati che sono così così come potenza alcuni però che hanno più volontà di potenza e quindi quel poco che hanno vogliono usarlo in maniera risolutiva con atti di forza altri invece non fanno così vi ricordo i fattori di potenza John Mersheimer che avevo tirato fuori l'altra volta cioè bisogna essere ricchi perché i soldati e le armi costano e avere esercito di terra quindi se non si ha popolazione, non si ha ricchezza non si può essere uno stato potente qual è l'obiettivo? egemonia regionale che vuol dire quando io parlo e chiedo una cosa gli altri più piccoli è meglio che seguono quello che dico voglio qui per essere ricco devo cercare di controllare il più possibile i flussi della ricchezza mondiale voglio anche intervenire in maniera egemonica nell'equilibrio di potere mondiale avere le superiorità delle armi nucleari quelle che li hanno in ogni caso delle armi almeno nella mia zona di controllo la caratteristica, e vi invito a notarlo di questi stati potenti è che li vediamo che abusano delle regole o ne forzano l'interpretazione la legalità internazionale la fa il più forte e ho trovato un articolo un recente intervento del generale Carlo Jean che vedremo più avanti interessante mantra dell'instabilità Mersheimer diceva siamo in un periodo molto instabile era il 2001 perché in questo momento siamo nel maggior pericolo di guerra vedete che la logica della guerra è sempre presente perché sono solo Stati Uniti e Cina notare nel 2001 con Trump due anni fa si parlava del pericolo di guerra proprio tra Stati Uniti e Cina nel 2001 Mersheimer non considerava Putin da poco presidente come importante e quindi la Russia non era ancora non era più una potenza globale come l'Urso oggi invece con la crisi dell'Ucraina noi vediamo continuamente rappresentata la Russia come una potenza globale espansionista che vuole ricostruire le zone di influenza dell'ex Unione Sovietica è articolo del 15 gennaio di Ugo Tramballi che è un commentatore è un giornalista commentatore geopolitico che mi piace sempre molto è molto bravo sono d'accordo quasi sempre con lui questa volta sono quasi d'accordo tranne in un pezzo e inizia è del 15 gennaio inizia il suo intervento citando una canzoncina che adesso vi canterò e che dovreste conoscere almeno quando c'erano i film di guerra di quelli della mia generazione era molto più famoso i giovani adesso forse la sentono no probabilmente la sentono molto di meno però è la canzone l'inno dei Marines che fa ebbene ve la canto con queste frasettine che inizia notare le hills of Montezuma sono quelle del Messico e quindi di Montezuma il re Tazteco che è stato sconfitto da Cortes nei primi decenni del 1500 e poi questa Tripoli è la Tripoli della Libia perché nel 1805 i Marines sono andati hanno fatto uno sbarco e sono andati a liberare una nave statunitense che era stata fatta prigioniera dai berberi islamici che controllavano Tripoli e che facevano i pirati hanno sequestrato una nave statunitense che non era protetta dagli accordi che questi pirati avevano firmato con la Francia con l'Inghilterra cioè Francia e Inghilterra pagavano tutti gli anni questi pirati perché non prendessero le loro navi gli Stati Uniti erano ancora nuovi ancora in guerra non avevano fermato il trattato e quindi gli era stata sequestrata una nave bene in Marines la prima azione dei Marines è stata fatta all'estero nella Baia di Tripoli per liberare questa nave e il capitano di questa nave ve lo ricordo da un punto di vista storico importante perché è un capitano a cui è attribuita un'altra frase famosa che viene utilizzata quando si pensa alla guerra right or wrong it's my country cioè giusto o sbagliato è il mio paese per cui quando il mio paese per il bene o per il male se fa bene o se fa male mi chiama a combattere io devo combattere per lui quindi come vedete quando si trovano certi fatti storici ecco questo è uno di quelli che nel momento in cui l'iconografia rimane viene ripetuta la ritroviamo anche a 200 anni di distanza ebbene Tramballi dice come la Russia come la Cina come ogni impero della storia gli Stati Uniti hanno sempre avuto ambizioni espansive quindi questi tre sono i grandi superpotenti poi va avanti e dice alcune cose e dice la NATO è un'alleanza democratica su questo io potrei discutere per almeno mezz'ora però non è il momento però vi dico solo democratica cioè è vero perché tutte le decisioni della NATO vengono prese all'unanimità non a maggioranza ma all'unanimità però i meccanismi con cui si arriva a questa unanimità sono molto poco democratici si entra e si esce liberamente non è mai uscito nessuno e c'è un motivo e lui giustamente dice Putin dovrebbe chiedersi perché 14 paesi siano entrati nella NATO proprio per sfuggire alla sua ambizione di ricreare una sfera di influenza russa su questo ha assolutamente ragione però questo ci dice anche qualcosa della cosiddetta democrazia è democratica la NATO perché c'è il più forte di tutti militarmente dentro che sono gli Stati Uniti e quindi si entra liberamente perché agli Stati Uniti conviene aumentare il numero di alleati anche contro la Russia perché però dall'altra parte è meglio certo star fuori dall'influenza di Putin e della Russia tra i due meglio dentro l'influenza della NATO e degli Stati Uniti che non quello della Russia poi però Trambali e su quarto vedete quando faccio i segnettini a virgolette qua è perché non sono molto d'accordo dice truppe NATO non sono mai intervenute per sedare le proteste popolari in un paese membro in realtà non è esattamente così perché le truppe NATO sono intervenute non per proteste popolari perché nei paesi occidentali non ce n'è bisogno perché le proteste popolari non portano quasi mai a cambiamenti politici effettivi però le truppe NATO sono intervenute in altri paesi a favore dei nostri e non degli altri e poi direttamente indirettamente invece i russi sono intervenuti notare l'hanno fatto per sedare le proteste popolari e fa un elenco di paesi Kazakhstan Bielorussia Armenia Moldovata ha attaccato l'Ucraina e in realtà l'uso di queste parole attaccato a sedare non è preciso perché storicamente non è stato così però qua come vedete il 15 gennaio i sospetti degli Stati Uniti Mosca cerca pretesti per invadere l'Ucraina e la rivelazione due alti funzionari mentre facevano una conferenza stampa hanno dato questa notizia e tutti i giornali maggiori giornali occidentali l'hanno ripetuta con titolazioni molto forti e già l'11 gennaio l'Europa è imbelle vedete essere imbelli significa non avere un esercito non è vero che tutti i 27 stati dell'Unione Europea hanno il loro esercito la Francia è anche una potenza nucleare e in Europa c'è il Regno Unito che è una potenza nucleare quindi i paesi europei alcuni non sono affatto imbelli ma noi siamo credibili vi ricordate non siamo credibili perché noi come Unione Europea non abbiamo mai dagli anni 50 dal dopoguerra non abbiamo mai usato le nostre truppe per interventi militari di guerra ma i nostri soldati sono sempre stati mandati per dividere i contendenti l'Europa però attenzione guarda caso non è stata invitata nel confronto tra Russia e Stati Uniti e chi avrebbe dovuto farlo l'avrebbero dovuto essere i russi che noi continuiamo a delineare come nemici ci avrebbero dovuto invitare loro oppure l'alleato più forte che è l'alleato della Nato che è un organismo democratico e visto che la gran parte dei membri della Nato è fatto di paesi europei forse sarebbe il caso che gli Stati Uniti ci avessero invitato notare che in un articoletto piccolino all'interno dell'Europa in belle come vedete la politica estera della UE però noi siamo senza difesa nei confronti del nemico cattivo vedete questo guardate sono due quadri di oggi giornale di oggi questo è il paginone dedicato a Repubblica la questione ucraina vi ricordate il titolo del 15 funzionari dicono che gli Stati Uniti sospettano oggi invece virgolette il segretario di Stato statunitense Mosca si prepara all'aggressione qua tanti soldati in tre settimane l'Ucraina sarà accerchiata non potrebbe essere accerchiata mentre il sole 24 ore dedica a questa crisi soltanto questo articoletto laterale e dedica più spazio alla sicurezza Macron propone un nuovo ordine per l'Europa Macron presidente francese di una potenza nucleare sta proponendo che l'Europa si doti notare di una difesa tutti gli stati membri dell'ONU dicono che hanno l'esercito solo per difendersi e quindi non vogliono e non intendono attaccare nessuno vi ricordate l'articolo del 4 gennaio le 5 potenze nucleari dicono la guerra nucleare perdono tutti e noi dichiariamo che è giusto trattare in buona fede e risolvere pacificamente le questioni però Repubblica vedete questo paginone nella parte sinistra nella pagina di destra questo è quello la scommessa di Macron è tempo che l'Europa diventi una potenza torna indietro vedete il sole 24 ore questo per farvi notare che il modo di raccontare cioè che la narrazione da parte dei media soprattutto nella scelta dei titoli può essere concettualmente molto significativa il sole 24 ore sicurezza quindi fa comunque fa riferimento al dobbiamo proteggerci però Macron propone virgolette un nuovo ordine per l'Europa che è una frase generica è una proposta che va discussa non entra nel merito mentre in Repubblica la scommessa di Macron virgolette è tempo che l'Europa diventi una potenza allora lui lo mette tra virgolette però io per abitudine e per esperienza bisogna sempre andare a verificare se nell'articolo è vero che Macron ha detto perché ho trovato spesso che nell'articolo la frase non è esattamente quella che è stata utilizzata nel titolo quindi siate sempre e anche se trovate che nell'articolo c'è la stessa frase del titolo tenete conto che non è detto che Macron abbia detto esattamente quello ora entro quindi a pieno titolo nella prima grande area e cerco sulla base del presente del conflitto della guerra che ci dicono che è imminente a novembre il primo articolo ha detto la Russia si prepara ad attaccare l'Ucraina tra gennaio e febbraio quindi se adesso siamo arrivati a questo a quel titolo di prima vedete Mosca si prepara all'aggressione vi dico non l'ho messo qua perché non ho tempo ma ho intenzione di costruirla questa storia alla fine di novembre sono comparsi gli articoli che dicevano la Russia si prepara ad attaccare l'Ucraina tra gennaio e febbraio ora cosa è successo con la fine della guerra fredda in rosso vedete la divisione tra i paesi satelliti noi dicevamo satelliti dell'Unione Sovietica loro dicevano i paesi fratelli dell'Unione Sovietica come vedete le parole sono significative erano lungo la linea rossa che Churchill già alla fine degli anni 40 aveva chiamato la cortina di ferro una cortina di ferro per dividere l'Europa cosa è successo con la fine dell'Unione Sovietica come vedete man mano la Nato si è spostato cioè questo organismo militare difensivo contro l'Unione Sovietica man mano si è spostato verso est siccome c'è stato un spostamento progressivo questa carta ha voluto rendere la più esplicita nel 1990 qua sotto i paesi della Nato erano questi nel 2009 i paesi della Nato erano questi tutto questo blocco centrale dei paesi fratelli o sotelli dell'Unione Sovietica come vedete il grosso lo diceva Tramballi Putin dovrebbe domandarsi perché tutti questi hanno voluto entrare nella Nato sta di fatto che voi guardate questo spostamento da questa posizione a questa posizione la Russia l'ha letto naturalmente come un avvicinamento di forze militari del tradizionale nemico verso i propri confini questo articolo dell'11 gennaio riporta quello che Putin a metà dicembre ha detto esplicitamente guardate che non succede quasi mai che qualcuno dica chiaramente prima in maniera trasparente cosa vuole questa volta Putin ha detto voi mi dovete mettere per iscritto voi della Nato che l'Ucraina non entrerà mai mi dovete mettere per iscritto che toglierete i missili a corto e medio raggio che possono colpire me e che avete messo dopo il 1997 nei paesi che una volta erano fratelli o satelliti dell'Unione Sovietica quindi lo ha detto molto chiaramente quello che vuole la cosa che vi dico è fuori dal comune che l'abbia detto esplicitamente e che abbia chiesto una risposta scritta la percezione dello spazio vedete l'Asia l'Europa che si pensa tanto potente è soltanto una penisola dell'Asia la Russia si percepisce come un paese grande non solo perché è il più grande come superficie ma è un paese asiatico ma anche europeo l'Europa dove comincia dove finisce lo vedremo tra un po' questa rappresentazione però geopolitica degli spazi come spazi che si combattono e quindi l'Asia e quindi la Russia che siccome anche asiatica è in fondo nemica e non europea vi faccio vedere tradizionale vi ricordate Alford Mackinder 1904 dice ah quest'area qua è quella che conta il cuore dell'isola mondiale quindi l'impero russo l'impero prussiano non devono allearsi e gli altri cioè inglesi francesi devono fare in modo di contenere gli Stati Uniti anche con un crescente cioè una mezzaluna territoriale qui e una mezzaluna marittima che guarda caso Spikeman che era un geografo statunitense come vedete non c'era più l'impero russo ma c'era l'unione sovietica e lui diceva qua noi dobbiamo fare una sorta di cortina fascia di contenimento cioè qua ci dobbiamo stare noi per contenere l'espansionismo di questi che sono i nostri nemici e quindi gli Stati Uniti dal punto di vista marittimo devono avere forze navali molto forti e potenti nel Pacifico e nell'Atlantico oltre poi ai sistemi missilistici Chiellin e Ausoffer invece nelle panregioni io ve lo metto solo come curiosità identificavano queste grandi panregioni però vi faccio vedere mettevano le Americhe sotto il contrallo dello Stato guida Stati Uniti l'Eurafrica naturalmente Ausoffer era tedesco Chiellin svedese ma apprezzava molto la cultura e l'organizzazione tedesca quindi tutti questi paesi sotto il controllo dell'impero prussiano notare che lo scrive nel 1916 e siamo in pieno guerra poi mette la panrussia e guardate le costruzioni le costruzioni culturali per stabilire che l'India l'Afghanistan il Pakistan e l'Iran dovevano stare nell'ambito della panrussia sotto il controllo della Russia dell'impero russo erano assolutamente un po' cervellotti che poi naturalmente la zona di coprosperità asiatica sotto la guida del Giappone vi ricordo che la zona di coprosperità asiatica era proprio la teoria la copertura ideologica dell'intervento e dell'espansionismo militare giapponese che ritroveremo quando parleremo della prossima area confuciane che ha segnato e che rimane ancora come percezione nella mentalità cinese coreana e di altri paesi dell'est mentre più o meno nello stesso periodo ma un po' prima Elisè Reclou che guardava più agli esseri umani che non agli stati che non al dominio che non alle aree di civiltà intese come civiltà chiuse all'Huntington diceva no nell'Asia la possiamo dividere area delle civiltà occidentali occidente dell'Asia che quindi condividono molte iconografie al di là delle differenze mentre c'è l'area delle civiltà orientali ovvero sia i gruppi umani che hanno delle caratteri culturali che sono diversi e però tra di loro hanno degli elementi in comuni io trovo più corretto questo tipo di divisione anche perché lo vedrete cercherò di giustificarlo con elementi anche della contemporaneità qua vi faccio vedere di nuovo invece che Samuel Huntington ritorna alla divisione del confronto lo scontro di civiltà e vi avevo parlato dei libri dei muri beh guardate nel 2020 questi erano i muri barriere costruite o pianificate in blu scuro sono barriere non sono muri ma possono essere filospinato barriere di vario tipo comunque delle divisioni fisiche effettive che rendono e che impediscono il movimento delle persone oppure pianificate quelle in arancione fatte apposta per impedire il movimento delle persone sulla logica quasi tutte ovviamente dei confini degli stati esistenti tranne questo che è l'ex marocco spagnolo quindi come vedete noi ci troviamo quest'idea dei muri della separazione del confronto di civiltà è ancora molto molto attuale però i muri sono anche vi dicevo dei muri culturali nell'ambito europeo la divisione est-ovest è di vecchissima data i confini dell'impero romano erano questa linea viola poi la linea di spartizione del grande scisma tra oriente e occidente è questa poi il confine dell'impero germanico è questo qua questo qua in verde poi gli stati che erano sorti in questa zona di confine tra l'est e l'ove dell'Europopo e che poi hanno cambiato i confini diventando stati nazionali e vedete la cosiddetta cortina di ferro vedete che tutti questi confini stiamo parlando dal 117 dopo Cristo durate fino al 1991 92 hanno insistito in Europa all'interno di questa area e questo naturalmente ha determinato un permanere di una sorta di percezione di reciproca diffidenza tra la parte più occidentale più atlantica ma soprattutto più mediterranea rispetto alla parte geograficamente più territoriale che ha a che fare con il Mar Nero come mare che però è un mare chiuso quindi queste sono faglie e muri storiche che a mio giudizio in Europa ancora rimangono perché vengono continuamente rincalzate vi ho fatto vedere l'esempio dei titoli di prima noi siamo in guerra con quegli altri sostanzialmente dove sono i confini dell'Europa e i confini dell'Europa sono stabiliti arbitrariamente ed essendo arbitrari si va lungo gli Urali e lungo il fiume Ural però se noi seguiamo il fiume Ural come vedete questa parte verde è un pezzo del Kazaki ma i Kazaki sono europei e il Kazakistan è un paese europeo questa è una delle contraddizioni delle tante contraddizioni che esistono quando si stabiliscono i confini cercando gli elementi naturali e non tenendo conto in questo le religioni sono uno strumento assieme alla lingua ma guarda caso le religioni strutturano la loro diffusione attraverso la lingua sacra che era il greco che era il latino che è l'arabo che è stato il russo antico con i caratteri cirillici eccetera ebbene in Europa come vedete noi abbiamo questa divisione religiosa tutti i cristiani quindi stessi o quasi stessi libri di riferimento vecchio e nuovo testamento e però vi faccio notare al di là del fatto che qua hanno una carta seguendo i confini e questo è scorretto perché ci sono degli splafonamenti in questa zona dell'Ucraina la presenza di cattolici è molto più forte che in questa zona dell'Ucraina dove qua sono tutti ortodossi ma sono in guerra tra di loro tra ortodossi tra parentesi in guerra spirituale e concettuale naturalmente però vi faccio notare che guarda caso gli esseri umani protestanti sono in aree contigue hanno continuato voluto nonostante le guerre e le guerre di religione a stare insieme i cattolici stanno insieme gli ortodossi stanno insieme e gli islamici stanno insieme questo è uno degli elementi di permanenza dei comportamenti dei gruppi umani perché se voglio rappresentare le lingue dell'Europa guardate quanti più colori ci sono e se poi vado a prendere un elemento ebbene il colore marrone nelle lingue come viene chiamato allora se noi prendiamo il brown o parole che hanno a che fare con il brown brun eccetera guardate quanto è diffuso la parola brown poi marrone vedete come è diffuso il marrone e poi altre parole come vedete anche l'elemento della lingua come l'elemento della religione costruisce dei raggruppamenti che sono la testimonianza di contatti e di relazioni avuti in maniera per tempi prolungati lungo i tempi storici avevo detto l'altra volta che la confederazione polacco-lituana era stata era stata l'elemento più forte per lungo tempo in Europa per più di due secoli e infatti vedete che nel 1648 fine della guerra dei trent'anni la confederazione polacco-lituana non che fosse in una condizione pacifica anche loro avevano le loro guerre ma erano molto marginali rispetto alla guerra dei trent'anni e vedete quanto è durato l'espansione della confederazione polacco-lituana che man mano dal giallo è diventato al giallino più chiaro quanto è diventato grande ora questa area che vi ricordate è quell'area in cui il muro la faglia concettuale tra l'est e l'ovest europeo è durata per secoli e secoli è un qualcosa che dal punto di vista politico in tempi moderni soprattutto dopo la prima guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale è stata rilevante lo vedremo adesso andrò velocemente ricordo la guerra di cromea in cui la russia si fa paladina dei cristiani ortodossi di questa zona oppressi dai turchi notare l'impero russo dice ma io voglio proteggere i cristiani dai musulmani che sono l'altro nemico mamma li turchi no? ebbene la guerra di crimea ha avuto due caratteristiche molto importanti che inglesi cristiani protestanti francesi italiani cristiani cattolici vanno a difendere l'odiato nemico turco cioè i musulmani contro i cristiani ortodossi io lo interpreto anche così è stato interpretato come questo confronto tradizionale tra cristiani scissione tra cristiani ma anche nei confronti dell'altro che come sempre è stato visto l'impero russo fin dalla sua formazione dall'epoca di Pietro al Grande che pure aveva guardato all'occidente aveva importato tecnici occidentali e aveva cercato parzialmente riscendoci parzialmente no di occidentalizzare cioè modernizzare con il nostro termine modernizzare della crimea vi faccio notare che è stata una guerra navale vi dico moderna perché le navi sono arrivate fino lì e poi soprattutto perché è stata fatta una linea telegrafica che è arrivata fino a Istanbul il che vuol dire che si riusciva in una settimana dieci giorni a far arrivare notizie di come andava la guerra a Istanbul e da qui arrivava velocemente in Francia e in Inghilterra per cui i giornali è la prima guerra che è stata raccontata quasi in contemporanea per cui l'opinione pubblica e l'opinione espresse sui giornali a favore o contro la guerra o sulla gestione della guerra è diventata importante determinante quindi la guerra di crimea che noi la rappresentiamo come italiani come un fatto marginale con i bersaglieri eccetera eccetera invece andrebbe raccontata in una maniera diversa anche da noi dunque vi faccio notare solo due cose in questa rappresentazione storica questa è la base di Balaclava è una insenatura è un fiordo che si trova qua e come vedete perché è importante la Crimea importante ancora adesso vedete la rada di Sebastopoli è un grande fiordo e quindi è un porto naturale da sempre e ancora oggi i russi la più grande flotta russa si trova nella rada di Sebastopoli perché è l'unico porto che non è bloccato dai ghiacci rispetto agli altri in Europa che stanno molto più a nord per i russi quindi le navi possono muoversi quando e come vogliono l'altro porto libero dai ghiacci è Vladivostok ma sta là in fondo di fronte al Giappone e quindi è scomodo mentre nella baia di Balaclava che è un fiordo molto stretto vedete è un'entrata molto più stretta di quello di Sebastopoli così utile che vedete hanno i russi durante l'unione sul periodo sovietico hanno costruito la principale base dei sottomarini nucleari che entravano visibili qua entravano nella quale è un promontorio molto alto quindi proprio massiccio roccioso i sormergibili entravano qua facevano rifornimento venivano riforniti di armi e poi uscivano da questa parte ma uscivano sott'acqua per cui potevano uscire senza essere visti dai satelliti quindi da un punto di vista militare per l'unione sovietica e poi per la Russia la Crimea da un punto di vista militare era un punto assolutamente necessario da avere e quindi è Ucraina hanno firmato un trattato con l'Ucraina per mantenere le basi pagando un affitto per 99 anni ma naturalmente nel momento in cui nell'Ucraina nel 2014 c'è una crisi interna politica a questo punto i russi decidono che cambia regime e l'Ucraina entra nella Nato loro non possono permettere che la loro base faccia parte di un paese della Nato perché li verrebbero buttati fuori subito per cui nel marzo del 2014 i militari già presenti a Sebastopoli che si trova qua e a Balaclava naturalmente che si trova qua più altri che sono arrivati dallo stretto di Kerch ebbene i cosiddetti omini verbi prendono il controllo della situazione organizzano un referendum in cui chiedono volete stare con l'Ucraina o volete diventare autonomi e siccome il 75% della popolazione di lingua e cultura rossa guarda caso era un referendum che già si sapeva come sarebbe come sarebbe finito quindi come vedete il quadro i quadri geopolitici di oggi nel caso della Crimea e trovate Trambali e Leal la Russia ha attaccato la Crimea in realtà non è così i soldati russi c'erano già certamente hanno preso il controllo della situazione però usare il termine attaccare la Crimea vuol dire non presentare semplificare in una maniera scorretta quello che è avvenuto direttamente e soprattutto dimenticare cancellare delle ragioni storiche perché la Crimea è sempre stata russa dal 1732 fino al 1954 quando il segretario del partito comunista russo Khrushchev ha regalato la Crimea all'Ucraina per ricordare che l'Ucraina era 300 anni che era diventata russa quindi come vedete spazio rappresentato simbolico ora ritorniamo a quella zona che vi dicevo della confederazione polacca lituana nel 1918 Lenin pur di firmare la pace smettere la guerra e risolvere i problemi della guerra civile vedete qua i territori in piena tutta l'Ucraina e altre zone il Caucaso era in piena guerra civile dopo la rivoluzione bolshevica firma nel febbraio del 1918 il trattato di Brest-Litovsk e tutti questi territori in azzurro che erano dell'impero russo diventano dei nuovi stati però i russi non sono stati contenti di aver perso questo territorio che loro controllavano anche a volte da moltissimo tempo guardate quanto è stato problematico i confini dell'Ucraina sono quelli in nero e come vedete ci sono voluti sei anni per riprendere il controllo completo di tutta l'Ucraina e soprattutto di questa zona vi faccio però notare che qua la Repubblica Nazionale dell'Ucraina occidentale è stato sotto il controllo della Polonia fino al 1919 quando i polacchi dicono di avere paura della Russia anche i russi hanno un contenzioso con i polacchi perché già dai tempi della confederazione polacco-lituana i polacchi hanno attaccato più volte la Russia li hanno sconfitti e gli hanno preso pezzi di territorio quindi il contenzioso tra polacchi e russi per cui non si fidano a vicenda è un vecchio contenzioso e non può essere rappresentato soltanto come l'oppressione del periodo comunista qua come vedete di nuovo vi faccio vedere questa cosa e sono alla conclusione del confronto est-ovest in Europa dalla cortina di ferro in rosso fine dell'Unione Sovietica spostamento verso est tutti questi paesi sono diventati paesi dell'Unione Europea e paesi compresi questi paesi della Nato in giallo vedete sono quei territori che la Russia aveva perso col trattato di Brest Ligtovsk e che alla fine della seconda guerra mondiale facendoli diventare paesi satelliti diciamo noi o paesi fratelli perché tutti diventati socialisti anche perché c'era l'armata rossa sul loro territorio che non è che favorisse la politica e la propaganda dei partiti capitalisti naturalmente ebbene i russi dal punto di vista loro hanno ritenuto di riprendersi almeno come controllo dall'esterno con i territori che avevano perso quindi come vedete le faglie di divisione e quello che succede oggi il confronto per l'Ucraina e la Russia eccetera vedete che l'Ucraina occidentale e così via si va inquadrato in una dinamica che è molto più vecchia dal punto di vista storico e anche con una differenza che è non linguistica perché tutti quasi tutti questi parlano slavo quasi tutti non di estoni in parte no i lettoni non i romeni e non gli ungheresi però una differenza che è anche che è in parte religiosa perché cristiani ortodossi sono molto diffusi in Romania e Bulgaria mentre i cattolici sono diffusi in cecoslovacchia Ungheria e Polonia e i luterani invece lì però ora l'allargamento da 6 a 27 paesi vi faccio vedere di nuovo questo è dell'Unione Europea però anche qui dal punto di vista della Russia è un progressivo avvicinarsi al loro territorio ma l'Unione Europea non è considerato un pericolo è la Nato che è considerato un pericolo e questo è l'allargamento vedete dal 1990 al 2009 e qua vi ho messo delle vignette nel 1800 questa è una carta del 1800 qua in basso a sinistra e vedete che l'impero russo viene rappresentato come una piovra che man mano si prende tutti i territori poi nel confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica c'era la rappresentazione simmetrica gli occidentali rappresentavano l'orso notare che la rappresentazione dell'orso è tradizionale dei russi e dell'impero russo però l'orso anche se è Unione Sovietica che si espande e vuole conquistare il mondo e i russi invece dicevano lo zio Sam gli Stati Uniti con Sima vedete vi ricordate Spikeman il Giappone la Cina il Pakistan Israele l'Europa occidentale e accerchiano l'Unione Sovietica e dalla parte nostra noi con l'immagine della piovra vedete a 150 anni di differenza ma la rappresentazione nostra del pericolo comunista utilizzava di nuovo l'immagine della piovra però questa volta con la faccia di Stalin chiudo questi elementi possono rimanere anche ci sono anche in altre aree geografiche certamente e vediamo come certi elementi storici si mantengono e ancora creano difficoltà nello sviluppo di relazioni pacifiche oppure creano aumentano la tensione che portano a picche ripicche tra stati intanto da un punto di vista storico ricordo la via della seta storica che è stato un percorso millenario di collegamento perché gli esseri umani si sono sempre mossi nella loro storia e hanno sempre cercato di scambiarsi prodotti per migliorare la propria vita quotidiana scambiandosi prodotti bisognava portarli fisicamente e quindi man mano che si portavano gli esseri umani partavano la loro lingua portavano le loro idee e quando intorno al fuoco dei caravanserragli o nei posti negli alberghi e roba del genere si parlava ci si scambiavano le abitudini e con gli esseri umani passavano anche le idee quindi la via della seta è stato un elemento di collegamento continuo molto vecchio qua vi fanno vedere quella storica ma qua vi faccio vedere quante erano le vie di collegamento storiche tra l'Oriente e l'Occidente è che fisicamente il territorio il percorso era molto lungo le barchette che andavano per via mare erano delle barchette e i mari erano pericolosi non a caso come vedete andavano proprio lungo la costa perché era meglio non attraversare troppo i mari pericolosi e per terra il percorso era lungo c'erano i pirati c'erano le tempeste c'era il deserto la siccità c'erano molti pericoli per cui l'influenza reciproca c'è stata lo scambio di merci c'è stato ma naturalmente non ha impedito che la isola culturale della Cina o dell'India sviluppassero delle abitudini e delle concezioni radicalmente diverse da quelle nostre per cui quella divisione che vi ho fatto vedere di Elisere Clou tra l'Asia occidentale e l'Asia orientale ha effettivamente valore questa è la via della seta storica semplificata e qua nel 2015 si rappresenta le nuove vie della seta le nuove vie della seta vedete che questa passa per l'Iran e arriva fino alla Siria e qua la nuova via della seta la si fa passare ancora per l'Iran poi non va nella Siria ma in Turchia la si manda a Mosca e da Mosca da noi e non è così perché ci sono già le linee ferroviarie quella più famosa è la transiberiana ma ne hanno aggiunte delle altre o tratte di transiberiana che partono da qui che attraversano il Kazakistan la Russia e che arrivano a Melso che arrivano nel nord Italia e che portano delle merci che arrivano addirittura a Mortara che è nel sud della Lombardia eppure come vedete in questa rappresentazione del 2015 tra le nuove vie della seta non viene rappresentata la linea ferroviaria che già esiste e dove ci sono già treni che portano merci dalla Cina questo perché noi tendiamo a rappresentare la Cina come altra esattamente come la Russia quindi come qualcosa di diverso il che è vero per molti aspetti ma anche qui rappresentazione di sé dell'altro come un nemico e tenete conto che questi contatti hanno avuto delle fasi storiche c'è stato l'impero degli Uiguri che parlano una specie di turco perché gli Uiguri sono nomadi che sono venuti si sono consolidati man mano guarda caso lungo la via della seta e hanno deciso di stanziarsi per controllare le merci e guadagnare poi però i Tungusi i Mongoli eccetera si sono messi in gruppo e a un certo punto tra il 1200 e il 1250 hanno fatto delle grandi invasioni e sono arrivati fino da noi e noi di questo ne parliamo poco ma dal punto di vista politico soprattutto in Medio Oriente hanno avuto degli effetti assolutamente devastanti cioè hanno cambiato la situazione politica in maniera rilevante guardate l'impero di Gengis Khan e del grande Khan tenete conto che per cento anni i Mongoli sono stati la dinastia imperiale della Cina però avevano anche tutto questo grande territorio ma di nuovo fateci caso nei nostri testi tendiamo a separare il grande impero dei Mongoli rispetto a Gengis Khan o Kublai Khan con cui ha parlato Marco Polo come se la dinastia mongola fosse solo una dinastia cinese se noi rappresentassimo realmente e raccontassimo la storia in questi termini visto che noi abbiamo sempre nei nostri libri di storia attribuiamo grande valore alle conquiste territoriali degli egiziani degli imperi iraniani Ciro il Grande l'impero persiano l'impero romano il sacro romano impero eccetera eccetera ebbene dovremmo attribuire valore ai Mongoli che invece da un punto di vista culturale noi non consideriamo come al di qua dei muri non a caso sia i cinesi prima che noi abbiamo cercato di costruire i muri per tenerli lontani Marco Polo guardate la strada che ha fatto come vedete la via terrestre la via della sette terrestre e poi la rotta di Marco Polo per il ritorno invece via via mare quindi i contatti ci sono sempre stati vi ho messo questa carta per darvi una conferma che almeno in questa carta qua le linee ferroviarie le due che arrivano fino in Europa qua le mandano soltanto in Germania ma arrivano anche da noi almeno ci sono c'è anche questa gialla che in realtà non c'è perché non funziona come quella là perché i territori sono molto problematici però per dire come vedete le carte non rappresentano sempre le cose in maniera precisa e reale vi faccio notare che la Cina e questo è un elemento importante come il Giappone come la Corea è sempre stata una potenza continentale tranne un breve periodo tra il 1400 circa e il 1421-23 in cui il comandante Zheng He che era un eunuco molto acculturato un mandarino della dinastia Ming gli hanno messo a disposizione una grande flotta e l'imperatore il terzo imperatore della dinastia Ming gli ha detto vai e cerca esplora tutto il mondo e fai accorti commerciali e vedete questi sono i percorsi che ha fatto e guardate fino a dove è arrivato Gavin Menzies che è un ex ufficiale di marina inglese che ha scritto un libro 1421 e dice che in realtà la flotta di Zheng He era talmente grande che si è divisa in quattro e hanno toccato sono arrivati in America prima di noi ovunque prima di noi tranne per solo per caso non sono arrivati da occidente in Europa vi faccio notare qui la differenza di dimensioni tra le caravelle di Colombo e la nave invece la nave ammiraglia dell'ammiraglio Giancain guardate la diversità di dimensioni portava circa 2000 persone 2000 persone tra soldati marinai eccetera aveva difficoltà a muoversi naturalmente perché si poteva non riusciva andare di bolina però questa è tutta un'altra questione ora esploratori conquistatori colonizzatori civilizzatori anche noi siamo andati per mare siamo arrivati fino alla Cina e siamo arrivati per via mare facendo questo percorso e arrivati in Cina che era arrivata al massimo della sua della sua potenza naturalmente noi siamo stati cosa siamo stati esploratori conquistatori colonizzatori certamente colonizzatori e conquistatori la Cina tenete conto da un punto di vista storico quando pensa a se stessa e ai territori che dovrebbe avere la Cina di oggi pensa a questo alla massima estensione dell'impero da questo punto di vista i cinesi la pensano esattamente come noi e quindi pensano all'estensione territoriale più è grande un impero più a terra più è civile più è importante più è giusto così quindi hanno una visione simile alla nostra però siamo arrivati noi li abbiamo sconfitti militarmente perché tecnologicamente eravamo meglio armati rispetto a loro e quindi anche se loro hanno inventato i fucili per primi la polvere da sparo e i cannoni con la polvere da sparo però noi abbiamo sviluppato come diceva Gianni Riotta l'arte del pensare alla guerra mentre giapponesi coreani e cinesi hanno pensato la guerra in termini diversi da come l'abbiamo pensata noi noi siamo stati molto più distruttivi nel pensare la guerra e quindi li abbiamo obbligati a trattati ineguali a concessioni e l'abbiamo fatta da padrone quando nel 1856-60 questi hanno ammazzato mezza dozzina o una dozzina di francescani noi siamo andati e abbiamo distrutto il palazzo imperiale dell'imperatore cinese a Pechino questo è quello che è rimasto come vedete l'azione di forza naturalmente i cinesi con la rivolta dei Taiping e dei Boxer hanno cercato di reagire ma non ci sono riusciti però i conflitti interni hanno fatto finire anche con nostro contributo la fine dell'impero e il passaggio alla repubblica noi occidentali avevamo tutta la convenienza che finisse l'impero perché se era debole primo un impero una repubblica sarebbe diventata ancora più debole cosa che è successa tra il 1911 e la fine della prima guerra mondiale la Cina è stata in mano ai signori della guerra cioè governatori che controllavano l'esercito governatori militari o generali che siccome avevano l'esercito c'era il governo centrale che però controllava vedete alla fine soltanto queste tre province in nero per il resto gli altri dicevano sì sì rispetto al governo centrale ma facevano quello che volevano all'interno di questo sistema il comunismo la rivoluzione bolshevica ha portato Mao Zedong e altri a dire beh allora questa Cina divisa è il momento di fare la rivoluzione anche da noi siccome non erano abbastanza forti e l'esercito nazionalista era più forte e gli ha cominciato una caccia feroce questi hanno cominciato a fuggire da questo esercito e hanno fatto la cosiddetta lunga marcia che è stato il percorso di movimento di movimento per sfuggire e tenete conto che sono partiti in 110.000 i comunisti erano soldati c'erano anche le donne le famiglie i bambini i tutti i cariaggi eccetera e sono finiti che erano poco più di 10.000 questo per dirvi cosa ha voluto ha voluto dire ciò non toglie che il mito la narrazione l'iconografia della lunga marcia ha fatto sì che loro durante la guerra mondiale hanno combattuto i giapponesi che come vedete hanno occupato prima la Corea tra il 1895 e il 1910 poi tra il 1927 il 33 la Manciuria poi tra il 33 e il 37 con il resto della Cina con sistemi alla giapponese perché era un sistema imperial militarista ebbene i comunisti sono stati i migliori a combattere i giapponesi e quindi hanno conquistato quella diciamo valore iconografico e storico del vincitore che sconfigge l'odiato nemico perché i giapponesi ne hanno fatte di cotte e di crude in Cina e questo rimane ancora in tutta l'Asia in Cina e in Corea dei giapponesi non ci si fida perché se hanno fatto quelle cose né più né meno come in Europa noi non ci fidiamo dei nazisti da chi parla di nazismo e vuole che il ritorno del nazismo esattamente perché abbiamo visto in soli 12 anni cosa sono stati capaci di fare i nazisti e di fatto se vedete in soli 20 anni cosa sono stati capaci di fare i giapponesi e all'interno di questo quadro c'è la questione di Taiwan ancora perché i comunisti conquistano la Cina e i nazionalisti scappano e vanno a rifugiarsi a Taiwan e quindi i cinesi dicono Taiwan è cinese deve ritornare come territorio alla Cina ma i taiwanesi che discendono almeno il 50% dai nazionalisti che sono scappati dai comunisti siccome nella Cina del Repubblico Polare Cinese c'è ancora il Partito Comunista che la fa da padrone dicono non osano dire indipendenza perché la sproporzione tra le forze è ovviamente a favore della Cina della Cina popolare dal punto di vista militare però sempre di più dicono noi siamo diversi siamo cinesi di cultura cinese scrivono coi caratteri tradizionali cinesi mentre Mao Zedong aveva semplificato i caratteri cinesi e quindi qua in Cina usano dei caratteri semplificati per cui tenete conto che in certi casi i taiwanesi non capiscono bene certe scritte cinesi e i cinesi della madrepatria chiamiamolo così non tutti sono in grado di capire bene i caratteri tradizionali quindi la questione di taiwan è una questione politico storico culturale e solo in parte linguistica come conseguenza della divisione fisica durata durata nel tempo anche la questione coreana è una questione tutta politica ma in parte culturale il buddismo è arrivato in Giappone attraverso i monaci buddisti che hanno imparato il buddismo dai monaci cinesi che hanno imparato il buddismo dai monaci buddisti indiani che sono arrivati in epoca storica da loro e quindi da un punto di vista culturale i coreani si sentono quelli che hanno portato la cultura al Giappone gli hanno portato il buddismo e se attraverso di loro i coreani gli hanno portato anche la scrittura con i caratteri cinesi se i giapponesi possono scrivere è perché i coreani i monaci buddisti coreani gli hanno portato la cultura quindi all'interno del senso di diversità per noi sono tutti uguali loro si riconoscono la faccia coreana è più facilmente piatta rispetto alle facce dei giapponesi o dei cinesi però di nuovo pur all'interno di questa area che noi consideriamo confuciana e consideriamo come tutto uguale naturalmente ci sono delle grosse diversità però vi dico che alla fine il confronto territoriale comunismo mondo occidentale ha trovato la sua punto di scontro forte nella guerra di Corea tra il 50 e il 53 e risultato una Corea divisa ancora oggi coreani che parlano la stessa lingua che scrivono nello stesso modo anche se progressivamente la divisione di nuovo mutamento nel tempo deriva culturale non si usano più certe parole al sud che si usano al nord e non si usano parole al nord che invece si utilizzano al sud quindi se innescata questa deriva è un qualcosa che è tipico degli esseri umani anche qui la questione coreana potrebbe essere risolta se non fosse ostacolata dal quadro per cui la Cina non vuole che un paese capitalista legato militarmente all'occidente confini direttamente né più né meno come la Russia non vuole che l'Ucraina entri nella Nato per non avere un paese della Nato legato agli Stati Uniti che confina direttamente con se stessa con un confine molto lungo la questione è sostanzialmente la stessa naturalmente i nordcoreani ogni tanto tirano dei missili e due anni fa eravamo sull'orolo della guerra mondiale della guerra nucleare dell'olocausto nucleare tenete conto che la Corea del nord credo sei giorni fa o sette giorni fa ha lanciato altri quattro missili però oggi non siamo più nella narrazione dell'olocausto nucleare cioè dell'idea della guerra e dell'azione di forza per cui i nordcoreani sono dimenticati quando sono dimenticati sparano dei missili per attirare l'attenzione ma in questo momento la narrazione della guerra è tutta sull'Ucraina e loro sparano i missili non ce ne importa un accidente vado avanti la Cina molto velocemente vi dico che però l'ultima cosa Taiwan è importante fisicamente tutti noi abbiamo prodotti cinesi e i prodotti cinesi partono via nave da Shanghai da Tianjin oppure da Hong Kong partono da qui fanno questa rotta e come vedete Taiwan si trova in una posizione strategica e quindi non solo per questioni storico linguistiche e culturali i cinesi vogliono riprendere il controllo di Taiwan ma questo vorrebbe dire prendere il controllo dello stretto che adesso non hanno ce l'hanno gli Stati Uniti e perché gli Stati Uniti sono in Corea del Sud in Ciappone o soprattutto Okinawa nelle Filippine hanno buoni rapporti con il Vietnam con l'Indonesia con l'India eccetera eccetera questa questione è una questione geopolitica perché la Cina che rimane continentale questa è una tradizione storica in questo momento vuole allontanare da sé le armi e la presenza militare statunitense al di fuori di questa linea di difesa azzurra che pur essendo in acqua e quindi senza una presenza fisica considera come confini fisici da cui vuole allontanare una presenza di chi può pensare la guerra e pensa la guerra se ci tiene le armi la vedete anche in questa carta la prima linea di difesa dichiarata dalla Cina vedete che comprende Taiwan ma la Cina negli ultimi cinque anni ha parlato anche di una seconda linea di difesa sono qua spazio rappresentato simbolico io dichiaro ed è la Cina è la seconda potenza economica mondiale la terza potenza militare mondiale nel momento in cui dichiara che quella è la sua seconda linea di difesa naturalmente è un messaggio mandato agli Stati Uniti che vedete queste sono le posizioni di tutte le basi navali o aere degli Stati Uniti intorno alla Cina la logica del contenimento di cui vi avevo già parlato visto che mi sono dilungato forse un po' troppo con le prime due aree per le ultime tre cercherò di evidenziare soltanto gli elementi essenziali storici che ancora permangono e vengono considerati e tramandati nelle narrazioni e nelle iconografie delle dinamiche geopolitiche contemporanee nel caso del Medio Oriente alcuni problemi ancora non risolti o che hanno influenza sulle dinamiche contemporanee risalgono alla fine dell'impero ottomano che aveva come vedete in questa carta questo tipo di estensione già si era ridotto negli ultimi 50-60 anni dell'Ottocento e la prima guerra mondiale è stata la sua sconfitta definitiva nel momento in cui questo grande impero finisce si deve decidere che cosa fare dei territori dell'ex impero e in questo Francia e Inghilterra hanno guidato in certi casi territori a una cosiddetta indipendenza e autonomia ma sulla base del principio dello Stato-Nazione che come vi ho detto adesso crea dei problemi per questa sua ambiguità tra Stato e Nazione e diventa ancora più importante l'effetto negativo in aree e in culture che non hanno mai avuto rapporti con il concetto di Stato e con il concetto di Nazione nel caso del Medio Oriente gli elementi iconografici fondamentali sono stati la diffusione e l'uso della lingua araba che si è legata alla diffusione naturalmente della religione islamica che nasce nella penisola arabica e ha come punti di riferimento fisico ma anche iconografico due luoghi legati alle vicende della vita del profeta Mahometto e che sono la Mecca e la città della Medina che come vedete si trova lungo la catena montuosa del Lijaz che ha dato nome a questo tipo di territorio e un nome che ritroveremo e su cui hanno dominato per lungo tempo il grande clan degli Hussein uno degli elementi essenziali all'interno dell'islam è che nel giro di pochi decenni dal suo formarsi e dal suo diffondersi nella penisola arabica e che immediatamente ci sono state sono sorte delle divisioni interne alla morte del profeta perché nulla Mahometto ha detto del rapporto con la politica e della religione finché c'era lui ovviamente che era il comandante dei credenti e la guida e la guida dei fedeli questa cosa non è stata discussa e affrontata al momento della sua morte ci si è posto il problema di chi dovesse comandare i fedeli senza chiarire che rapporto avesse con l'elemento della gestione politica del territorio dei rapporti con gli albi che non erano musulmani e quindi nel momento in cui si è dovuto decidere chi doveva essere il califo il califà ovvero quello che guidava i credenti all'interno del mondo islamico della prima comunità islamica c'è stata la questione se dovesse essere qualcuno che aveva il sangue del profeta perché se Dio aveva scelto lui quindi il sangue faceva agio oppure se doveva essere la comunità la tradizione la umma l'insieme della comunità dei credenti che doveva eleggere eleggere il successore del profeta vinse l'ipotesi della umma ovvero sia della comunità dei credenti per cui il primo califo fu scelto Abu Bakr che non aveva il sangue del profeta ma è stato il primo compagno di fede di Muhammad e sempre fedele poi venne scelto anche come secondo Omar che è stato famoso perché all'interno del suo califato c'è stata la grandissima espansione territoriale araba sono state conquistate i territori della Mesopotamia Baghdad la Siria con Damasco Gerusalemme la Persia e l'Egitto poi il terzo califo è stato Uthman che ha fatto un qualcosa di fondamentale dal punto di vista religioso perché man mano che morivano compagno amici e fedeli che ricordavano a memoria le parole del profeta rivelate dall'arcangelo Gabriele ebbene Uthman ha fatto scrivere le parole coraniche e per cui la struttura del Corano con 114 sure comparsa nella mente alla Mecca per cui dette meccane o alla Medina per cui dette medinesi ebbene è lui che ha deciso di metterle in un ordine sostanzialmente dalla più lunga alla più corta con all'inizio la sura apprente di sette versi al Fatiha che molti musulmani e soprattutto quegli osservanti usano molto frequentemente nelle fasi della vita quando ci si alza la mattina quando si comincia qualcosa di nuovo quando si apre un negozio quando arriva il primo cliente come augurio per un qualcosa che comincia e che debba andare bene ebbene sia Omar che Othman non avevano il sangue del profeta e quindi quelli che sostenevano che in realtà fosse il sangue del profeta che avrebbe dovuto far agio per la scelta del califo finalmente sembravano aver trovato soddisfazione quando il quarto califo fu Ali che era cugino e genero di Muhann aveva sposato la figlia Fatima che era la figlia preferita ebbene però la storia tragica vedete ho messo degli asterischi perché sia il secondo che il terzo che il quarto sono morte di morte violenta cioè sono stati uccisi questo per dirvi che le divisioni interne avevano portato anche a questo gesto dell'uccisione del califo e le vicende di Ali quarto califo di quelli definiti come ben guidati perché sono tutti quelli che avevano avuto rapporti diretti con il profeta ebbene proprio per un contenzioso con una parte del clan degli Omayadi di cui faceva parte come clan familiare anche Totman anche lui ucciso e come conseguenza di questa uccisione nella diatriba sulle questioni del potere sulla richiesta di riconoscimento del proprio potere come califo nei confronti di una parte dei familiari e del clan delle tribù invece Omayadi ebbene il governatore di Damasco non riconobbe l'autorità di Ali lo riconobbe solo di promettendo che avrebbe accettato la successione dei figli di Ali ma in realtà per questa decisione di Ali di trattare di negoziare e non di andare a sconfiggere quello che veniva considerato come in fondo un fedele un eretico ebbene Ali venne ucciso a Kufa che è una città che si trova in Iraq dove lui si era trasferito proprio per essere in una posizione anche più centrale dal punto di vista del governo fu sepolto a Najaf che è una cittadina vicina a Kufa e dopo alcune vicende perché il primo figlio rinunciò di fatto alla successione il secondo genito Hussein decise di rivendicare il titolo di califo nei confronti del figlio del governatore di Damasco che era stato invece nominato come califo nella battaglia di Kerbalah sempre in Iraq una battaglia con una grossa sproporzione di forze tra Hussein che oramai era rimasto con pochissimi seguaci e invece le migliaia di combattenti che seguivano il figlio del governatore di Damasco venne sconfitto il suo corpo martorriato e la sua testa tagliata si trova attualmente adevenerata dagli sciti nella moschea omaia di Damasco ebbene Shia Ali ovvero sia quelli del partito di Ali sono quelli chiamati ancora oggi gli sciti che hanno preso una strada di organizzazione religiosa diversa da quella dei sunniti quali invece si chiamano sunniti perché fanno riferimento alle tradizioni alle consuetudini viene definita sunna e per questo vengono definiti sunniti però da subito questa battaglia di Khervela è avvenuta nel 680 tenete conto che le gira ovvero la fuga dalla Mecca di Mahometto è del 622 che viene considerato come l'anno zero del mondo islamico e quindi della fondazione della religione islamica ma non ci sono solo gli sciti che dal 680 prendono una strada diversa perché vivono e ancora ricordano oggi l'assassinio di Hussein l'uccisione di Ali e quindi questa rottura come un fatto insanabile nella questione del rapporto tra potere e politica però già allora vi dico Ali è stato ucciso da uno del gruppo chiamato Karigiti che erano quei duri e puri che hanno detto Ali non è un vero e giusto califo perché invece di combattere il nome della fede si mette a trattare col governatore di Damasco dai Karigiti poi altri ancora più duri gli Aruriti a favore del Jihad violento quindi come vedete niente di nuovo con cose che si trovano ancora oggi poi altri gruppi successivi come i Soffriti gli Azrachiti in Ashaidat gli Ibaditi che sono diffusi nella zona degli Emirati Arabi un po' in Qatar nell'Oman e che nacquero anche loro con posizioni rigide che oggi invece hanno posizioni pacifiste e addirittura alcuni gruppi riconoscono l'immamato cioè la guida alla preghiera da parte delle donne e poi cito soltanto gli Zairiti ebbene queste città Al-Najaffa dove è seppellito il corpo di Ali o Karbala che è il luogo della battaglia dove c'è stato il martirio del corpo di Hussein il suo secondo genito per gli Shiti si aggiungono ai tre grandi luoghi sacri per tutti i musulmani che sono nell'ordine la Mecca ovviamente la Medina che è stata la prima città a accogliere e a garantire sicurezza al profeta in fuga dalla Mecca e poi Gerusalemme per gli Shiti si aggiunge anche Najaf dove c'è la tomba di Ali e Karbala che è il luogo della battaglia tutti gli anni gli Shiti fanno dei grandi perlegrinaggi in queste due città dove ci sono delle grandissime moschee come pure a Damasco dove c'è la testa di Hussein e quindi come vedete pur avendosi a Shiti che Sunniti come tutti i musulmani come testo di riferimento il Corano in arabo perché tutti lo imparano in arabo senza discussioni quindi con la stessa struttura solo 114 sure nell'ordine stabilito dal terzo califo solo piccoli gruppi di Shiti dicono che i Sunniti in realtà hanno cancellato Othman non ha voluto mettere dentro delle sure quindi delle cose rivelate da Dio che in realtà avrebbero dato ragione a quelli che seguono il partito di Ali quindi Shia Shia Ali ora questa divisione tra Shiti e Sunniti è andato avanti naturalmente anche differenziando la scelta e il rapporto che i Sunniti hanno con il potere rispetto che gli Shiti hanno con il potere gli Shiti riconoscono alla figura dell'imam e quindi ai teologi un ruolo molto più importante allora questa divisione territoriale come vedete la troviamo in tutto il Medio Oriente e noi ritroviamo che gli Shiti che sono tutte le zone dove la prevalenza degli Shiti sono queste zone segnate in verde come vedete sono diffuse nel Medio Oriente ma si mantiene una sorta di vicinanza territoriale quel meccanismo che abbiamo già visto per cui tradizionalmente gli esseri umani cercano di raggrupparsi e stare vicini a quelli con cui condividono dei modi di vivere condividono delle abitudini con cui si sentono al sicuro questo però ha portato naturalmente quando si sviluppano gli stati nazionali dopo la fine dell'impero ottomano ovviamente la presenza o meno di una maggioranza sunnita uscita determina anche la tranquillità e l'equilibrio politico interno che può essere più o meno favorevole in Turchia vedete i sunniti sono tra l'83 e il 93% gli aleviti che sono i discendenti di una parte degli Shiti tra il 7 e il 17% e quindi qua il contrasto interno non è da un punto di vista religioso non ha avuto dei risvolti politici anche per la Turchia è stato il centro dell'impero ottomano allora se vedete in Persia e oggi Iran gli Shiti invece sono l'89% i sunniti sono il 10% e anche qui tutte le dinastie imperiali che sono venute dopo sono state prevalentemente Shite o hanno appoggiato lo Shismo come religione di stato in Arabia Saudita come vedete i sunniti sono 89-90% però c'è un 10% di Shiti vi ricordate vi faccio attorno a quella di prima che sono lungo la costa del Golfo Persico vicino al Kuwait vicino al Qatar vicino al Bahrein e gli Amirati e dall'altra parte dell'Iran per cui il conflitto contemporaneo tra Iran e Arabia Saudita ha anche questi risvolti di diciamo primazia religiosa per cui l'Arabia Saudita sunnita che controlla i luoghi sacri si sente con un ruolo anche politico superiore oltre che spirituale nei confronti degli Shiti che vengono considerati non dei bravi musulmani e che hanno avuto storicamente il loro centro nell'Iran e quindi l'Iran di oggi e l'Arabia Saudita di oggi hanno anche questo tipo di confronto che fa riferimento a quell'ambiguità che vi dicevo per cui nei rapporti della politica la politica deve seguire la legge religiosa e quindi l'Islam però di fatto chi è stato il califo è stato un leader religioso e anche politico per cui gli stati moderni contemporanei che in certi casi sono stati il risultato di una lotta politica che ha portato a un colpo di stato militare per esempio ebbene pur essendo all'interno del mondo arabo e quindi volendo favorire o cercare o riconoscere un panarabismo ovvero tra tutti noi che parliamo arabo e siamo di cultura araba siamo fratelli e dobbiamo stare insieme perché l'Islam sunnite è la nostra religione ma in realtà le esigenze di un potere militare quindi molto autoritario all'interno dei confini dello Stato ebbene questa ambiguità lo Stato era confinato con un potere molto rigido con governanti ben identificati che però tendevano a riconoscere il panarabismo il panislamismo come un riferimento teorico ma non come una forma di potere che potesse mettere in discussione il loro potere risultato da un atto di forza ebbene vedrete che anche nelle bandiere di cui vi parlerò tra poco i paesi in cui c'è stato un colpo di Stato militare o una presa del potere sulla base di un principio dello Stato le bandiere di questi Stati sono diverse è il caso della Siria è il caso dell'Egitto è il caso dell'Iraq le bandiere di questi Stati sono diverse dalle bandiere degli Stati che invece fanno riferimento al califato alla tradizione e quindi agli elementi spirituali della storia del passato vi faccio vedere la cosa importante per il Medio Oriente prendo solo le bandiere i colori delle bande nel momento in cui decidono la bandiera per esempio palestinese è stata la prima bandiera durante la guerra Lorenz d'Arabia Usain Usain delle Jazi Re Feisal che combattevano contro i Tuk che con l'indipendente hanno sviluppato questa bandiera e come colori hanno preso i colori nero verde e bianco dei califati abbasside Fatimide e Omaide poi il triangolo rosso perché rosso era il colore della dinastia ascemita cioè degli Usain delle Jazi gli Usain della re di Giordania discendono da uno dei due figli di Feisal e per decidere questi colori il primo progetto come vedete di una bandiera panaraba che avrebbe dovuto raccogliere tutti gli arabi e tutti i musulmani con i quattro colori cantati dal poeta medievale Safi'i Ad-Din Al-Illi vi faccio notare che Din vuol dire religione quindi Safi'i della religione Al-Illi che è il soprano nel 1914 la proposta di usare il nero degli Abbasidi la bandiera degli Abbasidi il verde dei Fatimidi che erano sciti egiziani mentre gli Abbasidi avevano la capitale a Bagdad e il bianco degli Omayadi che sono stati la prima dinastia anche loro capitale Damasco quindi come vedete il Cairo Bagdad Damasco Egitto Iraq Siria in questo momento si mettono insieme come vedete gli elementi simbolici che vogliono sulla base storica vogliono mettere insieme e dare un riferimento ideale unitario a cui tutti che abbiano cognizioni storiche o non abbiano cognizioni storiche in qualche modo anche se non sei acculturato però capisci il simbolo della identificazione che è la lingua che è la religione perché tutti parlano arabo ma i dialetti arabi sono molto diversificati un marocchino quando parla con uno di Damasco non può parlare il suo dialetto arabo marocchino perché quello di Damasco non lo capirebbe ma siccome l'arabo classico deriva dal Corano che tutti studiano e capiscono a questo punto si parlano in arabo classico l'arabo di Damasco non è molto diverso dall'arabo classico per cui l'abitante siriano o del Medio Oriente è favorito mentre il marocchino è quasi come se parlasse due lingue non è esattamente così però ha più difficoltà adesso vedrete una sequela di bandiere del mondo arabo-musulmano e vedrete quali sono i paesi che hanno raccolto questi colori in maniera diversa la Giordania ha messo una cosa particolare che nessun altro paese ha messo questa stella indica i sette versi della prima sura l'Al-Fatihah cioè la prente del Corano è l'unico paese che ha messo questo simbolo poi vedete altri invece quelli più moderni l'Egitto la Siria l'Iraq eccetera hanno cambiato hanno abbandonato i colori tradizionali ne hanno presi altri legati a un altro tipo di narrazione storica più moderna e contemporanea guardate la Siria però quanti dal 32 al 90 quante volte ha cambiato la bandiera però ha mantenuto una sorta di stilema continuo tenete conto che quando è finito l'Iraq di Saddam Hussein gli occidentali hanno pensato di proporre al nuovo Iraq questa bandiera secondo me è un esempio di cosa vuol dire non vuol dire certo dovete cambiare rispetto al passato però immaginare che in Iraq avrebbero potuto accettare una bandiera con questi colori così diversa da quelle tradizionali legate alle menti culturali della religione e della lingua oltretutto con il bianco e l'azzurro che sono i colori dominanti della bandiera di Israele Israele è considerato una indebita intromissione occidentale all'interno quindi per darvi un esempio di come si può essere inconsapevoli anche voglio dire guardate che non è che negli Stati Uniti o in Occidente non ci siano esperti del Medio Oriente eppure quando i leader politici decidono e pensano di poter fare delle progre arrivano a punti del genere poi vedete che l'Iran sceglie altri tipi di rappresentazione e il Marocco che è quello più lontano e come vi ho detto la dinastia ha scelto anche lui un altro tipo di rappresentazione tutto rosso con questa stella che però in parte altri il crescente con la stella altri paesi lo prendono in azzurro la Somalia e l'altra è la Repubblica Saharabi poi la Turchia la Tunisia l'Algeria il Pakistan non ha ripreso la mezzaluna e la stella quella stella sarebbe Venere perché quando c'è la luna crescente molto vicino intorno in posizioni diverse c'è Venere che è la stella più luminosa altri invece nella penisola arabica come vedete la Shahada cioè la dichiarazione di fede non c'è altro dio al di fuori di dio e Mahometto è il suo profeta è la spada dell'Islam mentre gli Emirati il Qatar il Bahrain eccetera hanno preso altre raffigurazioni perché il loro senso di identità è legato al clan e alla tribù anche se parlano arabo e sono musulmani ma quindi fa agio è più importante è più importante il legame di clan che non il legame religioso l'Arabia Saudita che protegge i luoghi sacri la Mecca e la Medina naturalmente quindi ha scelto la dichiarazione di fede musulmana vado avanti farvi vedere il corno d'Africa guardate la differenza linguistica tenete conto che la rappresentazione dell'Africa è una rappresentazione che è sempre nostra perché gli africani si rappresentano in maniera diversa e ci sono università africane in cui si fanno degli studi panafricani che hanno un approccio diverso dal nostro ma noi naturalmente nella nostra produzione e anche su internet noi troviamo prevalentemente le immagini nostre dal punto di vista linguistico vedete la diversità linguistica anche se ci sono delle grandi famiglie questa è la grande famiglia delle lingue Bantu più queste che invece fanno riferimento all'arabo o a lingue tipo Berbero eccetera che hanno avuto contatti con l'arabo e ne sono stati in qualche modo contaminati noi abbiamo avuto rapporti con l'Africa ma gli stessi romani hanno mandato guardate un certo numero di spedizioni per cercare di capire com'era è che quattro e mezzo c'era il Sahara e come vedete sono riusciti ad arrivare appena al di là del Sahara e poi e poi troppo difficile quindi i contatti con l'Africa sono stati molti di meno rispetto all'Asia e la via della seta per cui gli africani hanno creato e sviluppato elementi culturali che hanno che rispondono alle esigenze umane ma con caratteri molto ma molto diversi dai nostri sono a mio giudizio sono il gruppo culturale subsahariano la differenza culturale più forte rispetto a noi i cinesi gli hinduisti hanno caratteristiche teoriche molto diverse ma in qualche modo concepiscono l'impero e il potere come lo abbiamo concepito noi come gruppo umano mentre gli africani hanno concepito il potere i rapporti di potere i rapporti col territorio in una maniera radicalmente diversa da noi vi è fatto solo qua i regni dalla regina di Saba il regno di Axum stiamo parlando di un'antichità storica molto vecchia che noi consideriamo solo perché dei testi nostri hanno citato i regni d'Egitto e il regno di Saba altrimenti non li consideriamo vedete i regni e gli imperi che noi africali di cui siamo venuti a sapere li rappresentiamo così e questa rappresentazione in qualche modo è corretta vedete con fini non tirati dritti come li abbiamo disegnati noi però anche questa è una rappresentazione che pretende di rappresentare bene o male le aree africane storiche prima che arrivassimo noi e la tentazione di tirare delle linee dritte e di grandi spazi quindi questa carta è sbagliata perché è nostra questa carta è sempre nostra ma è una carta che ha cercato di entrare nella logica della concezione del potere e del rapporto col territorio dell'estero umano e degli africani questo grande territorio però vedete nel 1885 era ancora sostanzialmente vuoto di occidentali noi avevamo conquistato i territori marginali nel 1914 questa è la carta che noi occidentali rappresentavamo e quindi l'avevamo conquistata tutta ora nel corno d'Africa in modo particolare vi ricordate Regina di Saba quindi è un territorio molto vecchio ed è importante è importante qua notare che l'Etiopia tranne un brevissimo periodo di pochi anni è stato l'unico l'unico stato l'unica area che non è mai stata colonizzata da occidentali o dagli egiziani o da altri o dagli arabi eccetera eccetera ed è per questo che la sede dell'organizzazione dell'unità africana viene tenuta ad Adi Sabeva perché c'è questo questo elemento culturale storico l'unico stato che non è mai stato colonizzato tranne dagli italiani però soltanto per 5 anni dal 36 al 41 1936 1941 l'Africa ce la siamo divise vedete le vignette siamo tutti noi guardate come siamo rappresentati quando si parla di rappresentazione noi con la coppola con i baffi gli spagnoli sono vestiti da torero quelli portoghesi hanno le cose con i ghirigori mentre i francesi hanno il vestito il vestito buono il belgi leopolde eccetera con la divisa militare e qua la conferenza la conferenza sull'Africa del 1885 vedete c'è l'imperatore prussiano che divide le fette dell'Africa e anche qua invece una specie di panettone e come vedete ci sono tutti i militari i prussiani giubba rossa inglese i francesi e noi i bersaglieri italiani noi abbiamo preso l'Abissinia che è poi diventata l'Eritrea poi ci siamo presi nella fine del 1800 la Somalia anche gli inglesi si sono presi si sono presi la Somalia e così è rimasto fino alla seconda guerra mondiale è che noi avremmo voluto prenderla l'Etiopia è che il Negus Negesti che vuol dire il re dei re Menelik II nel 1896 nella battaglia di Audua ci ha sconfitto in una maniera assolutamente brutale e vedete questi barbari perché vestiti tradizionali Menelik II era così ma si faceva riprendere anche con le scarpe all'occidentale i pantaloni la gonna il cap però un bel fucile perché di questa modernità gli piaceva anche a loro ai re questa modernità piaceva molto allora notare che i confini dell'Eritrea che abbiamo stabilito noi con la colonia hanno provocato dei problemi ancora adesso quando ce ne siamo andati ebbene l'Eritrea che è stata per lungo tempo inglobata nell'Etiopia ha fatto una guerra e quando è diventata indipendente dopo un po' la guerra è ricominciata perché gli Eritrei volevano questi pezzettini di territorio arancione mentre gli Etiopi hanno detto no questi pezzettini quali voi sono nostri e se voi guardate qua questa carta che è quella della invece divisione per lingue per gruppi come vedete il confine tra Eritrea e Etiopia ci sono tegrini a nord e tegrini a sud come ci sono gruppi umani che sono a cavallo delle frontiere come succede normalmente e voi guardate in Etiopia il re dei re la questione quanti sono i gruppi gli Afar gli Amara i tigrini i Somali gli Arari gli Oromo eccetera gli Oromo i gruppi maggioritari sono gli Oromo gli Amara e i tigrini e in parte gli Afar ebbene per tenere insieme questi gruppi diversi ci vuole un'idea accomunante forte che può essere la religione sono cristiani copti la gran parte però ci sono anche musulmani ma è stata solo in parte un motivo di aggregazione oppure la lingua ma in realtà hanno lingue tutte diverse oppure è stato il negus negesti cioè l'idea di avere il re dei re guardate che il concetto di re dei re è un concetto africano che noi abbiamo usato nella nostra storia molto poco solo formalmente l'imperatore del sacro romano impero veniva eletto però tradizionalmente i re africani venivano eletti per gran parte del territorio africano venivano eletti come pure il negus negesti e guardate l'ultimo negus negesti è il esse lassie vedete nella sua rappresentazione con i vestiti tradizionali ma il figlio vestito all'occidentale però ci teneva molto come ufficiale di marina come ufficiale invece dell'esercito o come la divisa di altissima di alto uniforme ebbene cosa recentissima vedete 29-11-20 l'Etiopia e i tigrini cioè la parte del tigrai a nord dell'Etiopia sono in guerra per una serie di vicende storiche del controllo del potere perché dell'occidente gli altri popoli hanno capito subito una cosa dai colonialisti che l'idea dello stato quando tu controlli in territorio chi comanda comanda su tutti guardate che anche l'imperatore cinese dice questo territorio è mio in realtà non comandava vero e proprio ma c'era uno scambio di tributi cioè questi riconoscevano teoricamente formalmente l'autorità dell'imperatore cinese offrendogli dei doni l'imperatore restituiva dei doni e nel caso ci fosse stato bisogno avrebbe chiesto di mandare dei militari per combattere quelli glielo avrebbero mandato però come vedete è un rapporto imperiale molto diverso per esempio dal concetto imperiale dell'impero romano per intenderci o di altri tipi di impero quindi ancora oggi l'Etiopia soffre è una delle interpretazioni del fatto di dover tenere insieme i gruppi maggiori che in mancanza del negus negesti cioè di un'idea unificante non riescono a trovare una nuova idea unificante che li faccia stare insieme e siccome la costituzione dell'Etiopia riconosce il diritto dell'indipendenza e delle secessioni di ognuno dei sottostati naturalmente in periodi storici diversi c'è stato qualche qualche gruppo che ha chiesto rivendicato l'indipendenza e guarda caso chi era al potere quando c'erano i tigrini che controllavano tutta l'Etiopia non hanno consentito agli altri di staccarsi quando erano gli Amara che controllavano tutta l'Etiopia non hanno consentito agli altri di divetersi paradossalmente gli Omoro che non hanno mai avuto un controllo totale sull'Etiopia come hanno avuto gli altri e che oggi invece col loro presidente che è un Oromo nel momento in cui i rapporti col Tigrai sono diventati sempre più conflittuali ebbene questo Oromo ha rivendicato l'unità della nazione e sono in guerra per impedire che i tigrini si stacchino dalla federazione anche se la Costituzione gli darebbe diritto di farlo allora però naturalmente il contenzioso è diventato anche giuridico questo per farvi vedere come l'elemento storico ancora influente è stato l'elemento coloniale quindi i confini stabiliti nella fase coloniale che si sono sovrapposti a una tradizione locale africana che era basata su altri principi ma lo Stato moderno che quindi dovrebbe liberarsi dall'elemento coloniale non riesce ad uscire da un altro elemento coloniale che è quello dell'azione di forza per risolvere le questioni vado velocemente la Somalia dal 1991 che si prendeva unificata cioè mettendo insieme l'ex Somalia britannica con l'ex Somalia italiana che era tutta questa dal 1991 c'è una guerra civile il risultato che il Somaliland si è dichiarato indipendente questo territorio qua anche l'area qua è contesa ma in realtà è controllata dal Somaliland ebbene il Somaliland che non viene riconosciuto da nessuno si è dichiarato indipendente ha un governo ha già fatto quattro volte le elezioni democratiche e quindi è un elemento di stabilità ma non viene riconosciuto perché perché la logica che i confini non si toccano e siccome la Somalia è in pieno marasma e il governo centrale non riesce a controllarlo tutto c'è la banda Shabab che sono dei miliziani jihadisti eccetera eccetera di fatto non c'è un governo efficiente il risultato è che questa parte che è molto problematica e che è situazione drammatica si pretende che controlli quel territorio e questo non è pacifico mentre quello là è in una situazione pacifica così pacifica cercano di ricostituirsi un elemento nazionale vedete questo è monumento della nazione è un bombardiere mandato dal capo del governo del 1991 a bombardare i somali che volevano l'autonomia e quindi diventa il simbolo dell'autonomia e qua invece vedete il Somaliland tenuta da una mano come vedete è un paese molto povero e anche i monumenti sono quello che sono il Somaliland cerca di ricostituire un'idea nazionale secondo me è un errore perché non può funzionare tanto perché il vero elemento che tiene insieme il Somaliland è il fatto che ci sono solo due grandi clan che controllano quasi tutto il territorio e i rapporti di relazione la fedeltà al clan alla tribù al gruppo familiare è un collante che funziona da sempre nei gruppi umani perché è tipicamente umano e funziona molto meglio rispetto alla pretesa di cercare di costruire una identità nazionale in un paese guardate sono cinque anni che non piove non piove proprio e quindi ci sono un sacco di profughi climatici che si muovono e che vanno e che vivono di aiuti internazionali in campi di decine di migliaia di persone perché è un territorio molto problematico vi faccio vedere qui che ha siccità alluvioni e invasioni di locuste a questo aggiungete l'elemento conflittuale che è legato al concetto dell'azione di forza l'ultima cosa che vi dico di questo territorio è che tra il 2005 e il 2010 la PINH come conseguenza della crisi somala un po' di gente della costa pescatori eccetera hanno cominciato a ritornare a fare i pirati assaltavano le navi le sequestravano per avere il riscatto ebbene la zona una delle zone più tranquille era di fronte al Somaliland cioè il territorio non riconosciuto ufficialmente perché non si riconosce l'autoproclamazione del distacco eccetera eccetera è il paese più stabile che ha un problema molto forte di crisi umanitaria per fame però lì possono arrivare tranquillamente gli aiuti umanitari perché c'è una situazione tranquilla e non di conflitto mentre in quest'altra zona che ha anch'essa problemi umanitari gli operatori dell'ONG eccetera lo stesso ONU la FAO e roba del genere hanno difficoltà perché qua c'è una situazione conflittuale e qua quindi ci troviamo in una situazione in cui il quadro concettuale che è quello dello Stato-Nazione è un elemento problematico rispetto al riconoscimento di una situazione di fatto che invece è migliore per gli esseri umani perché certi modi di gestire la politica e le relazioni umane e cercare di risolvere i conflitti vengono sempre pensati e ricito l'articolo secondo l'arte di pensare la guerra che ci viene continuamente riperduta e non cercando di capire di giocare in anticipo di prevedere le crisi e di andare dagli esseri umani e dire per risolvere i vostri problemi che cosa volete per vivere una vita decente di che cosa hai bisogno questa era la proposta delle soluzioni pacifiche l'ultima cosa che vi posso dire delle Americhe per chiuderla e riprendo questo elemento che è quello della divisione della colonizzazione che è ancora un elemento culturale linguistico e gli elementi storici che rimangono che è la colonizzazione iberica quindi di lingua e cultura spagnola e portoghese che sono naturalmente molto simili ha marchiato e marca ancora l'assetto politico il concetto della famiglia le relazioni tra le persone in tutta l'area dal Messico in giù l'arrivo degli schiavi che abbiamo gestito noi occidentali e quindi la presenza di un corpo estraneo e la presenza di persone nere perché rispetto ai bianchi che sono venuti dall'Europa e rispetto agli amerindi che stavano prima anche questo è un elemento di separazione rappresentazione di sé dell'altro quindi quando si pensa alla nazione la nazione dei paesi latinoamericani quando nel 1800 diventa indipendente si pensa come un'azione bianca e quindi i meticci e i neri sono allo strato inferiore non ci si fida sono l'altro interno poi naturalmente c'è il superaltro che sono quelli del nord america perché la colonizzazione del nord america è stata una colonizzazione francese una colonizzazione inglese di lingua anglosassina ma soprattutto una colonizzazione moderna cioè che è stata fatta con un concetto moderno è stata fatta soprattutto dopo la rivoluzione francese con i fucili con i carri con il filo spinato cioè con tutta una serie di concezioni e di elementi che fanno sì che gli Stati Uniti e il Canada siano naturalmente culturalmente e concettualmente diversi rispetto a tutti i latinoamericani poi c'è un contenzioso diretto a metà del 1800 la guerra messicana per il controllo del Texas e beh i messicani ancora adesso non l'hanno dimenticato come pure i texani e gli statunitensi non l'hanno ancora dimenticato e questo è in parte un problema nel momento in cui guardate i messicani che sono nel sud degli Stati Uniti e tutti quelli che dal centro America cercano di andare negli Stati Uniti passando per il Messico sono quindi poveri ma gli altri gli esclusi rispetto agli statunitensi che si pensano ancora bianchi dicono melting pot ma sappiamo bene col fenomeno del Black Lives Matter che in realtà non è così questo crea delle tensioni soprattutto nelle zone dove la presenza messicana è talmente forte che tenete conto che oramai almeno un terzo dei cittadini statunitensi parla normalmente a casa e anche sul posto di lavoro perché gestita da latinoamericani parla il castigliano e da un punto di vista economico i rapporti vedete la linea di confine cioè in verde il reddito pro capite degli stati a nord che è un reddito più alto di quelli che stanno a sud i quadrati vi dicono la presenza di fabbriche quindi di messicani che producono per società che producono per società del nord america e quindi questo rapporto economico non fa altro che confermare la divisione tra quelli più ricchi i bianchi il gringo che di fatto controlla l'economia e che è in posizione di potere rispetto ai latinoamericani che invece sono più poveri e che però ovviamente nel tipo di società statunitense che è più dinamica che consente maggiori possibilità individuali perché è meno ingessata dal punto di vista economico non dal punto di vista sociale ebbene allora i messicani o i latinoamericani gli ispanici cercano di andare negli Stati Uniti per trovare un percorso di accumulo di ricchezza economico personale anche se socialmente ci stanno mettendo ancora molto tempo ma per esempio il fatto che uno dei principali leader del partito repubblicano sia Ted Cruz che è un latinoamericano testimonia che sono arrivati alla parte alta delle istituzioni la seconda cosa storica molto forte che i latinoamericani non dimenticano e che gli Stati Uniti come vedete sono intervenuti 56 volte militarmente nei Caraibi nell'America Latina per appoggiare dittature militari o per appoggiare presidenti che avevano vinto in maniera truffaldina le elezioni o per mandare via un presidente che aveva vinto legittimamente le elezioni e metterci il presidente che volevano loro negli ultimi anni lo hanno fatto sempre di meno però i latinoamericani non dimenticano che gli Stati Uniti i gringos sono sempre stati così per concludere il mio apporto e tutti gli esempi che vi ho fatto anche nelle cose molto essenziali delle ultime tre grandi vi ho cercato di farvi di sottolineare che gli esseri umani come gruppi non hanno mai avuto dei confini perché gli esseri umani si muovono e le culture sono dinamiche però tutti gli esseri umani dal punto di vista psicologico hanno un desiderio contro la paura di sentirsi parte di un gruppo di un gruppo di uguali di cui non devono avere paura e la maniera fisica per rappresentare che sono sicuri è quello di stare in mezzo a gente uguale e se necessario di costruire un muro una separazione in qualche modo per dividersi dagli altri che sono diversi e se anche non sono molto diversi io racconto e dico e continuo a ripetere che sono molto diverse da me quindi questi due elementi significa che ovunque gli esseri umani cercano autonomamente degli elementi culturali un qualcosa degli strumenti per sentirsi parte di un gruppo per contrastare la paura e politicamente in epoca moderna in modo particolare in base allo Stato si costruisce il senso dello Stato-Nazione per rispondere a questa esigenza normale il fatto è che i confini fissi degli Stati che vogliono fissare anche i confini delle Nazioni a mio giudizio sono un problema che rende sempre di più problematico risolvere pacificamente i conflitti perché l'idea dello Stato-Nazione è ancora quello del potere e dell'azione di forza e quindi come vedete nell'immagine conclusiva a sinistra di gente col camice col compasso con la riga con la carta geografica pronta a tirare i confini a disegnare i confini mentre il mio approccio è un approccio critico e antropologico che pensa a una geografia nel senso ampio di approccio alla conoscenza senza confini e con questo vi ringrazio